Pronto? Pronto? È pronto, pronto Bra-brand-bra-brand-do Turu-turururu Turu-turururu Chiedate Che tu non C'è sentite Dururururu No, perché Sera andate? No Buongiorno, buongiorno a tutti, aspettate un secondo Ok, ho messo un po' di musica nelle mie orecchie così mi sveglio Let's go, vamonos, però non do, ehi, ma vuoi battere tutti i record? Sei sempre tu il primo a scrivere, Joe, mannaggia tutto, mannaggia Incredibile E si parte tra poco, viene pure Dani del team, buongiorno, buongiorno Nel frattempo mi scaldo un attimo in singolo Tu, 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 scaldo, oddio, ho le mani freddissime Sicuramente farò una brutta fine, non sempre, oh, gli ultimi giorni sei sempre tu Che, date Ah, eccolo là, è arrivato pure il bombolaro, è arrivato, è arrivato anche il bombolaro, direttamente con la canna da pesca Si va a pescare nel gulag? Mamonos Noi potevo andare a vedere che ci sta da mangiare Ma ieri che fila ha fatto? Si sarà addormentato col telefono in mano Ah, domani si pesca Eh beh, domani è domenica Domani si fa a pesca Ma si pesca, tutto, tutto l'anno si pesca, bro Nooo, dai, ho finito le munizioni, non ci voglio crede Sto pensando di aumentare la sensibilità, però non sono convintissimo Che poi ho paura di spirare troppo se aumenta da 12 Vediamo, vediamo, vediamo come va sto singoletto Domani si va, si va a drifting Si va a bombolaro o a pesca? Bello Io spero di un giorno voglio provare Futuro, mi piacerebbe Tipo in quelle piste enormi con le macchine per driftare Bello, però, cioè non fatto a cazzo Fatto dove lo fanno seriamente dentro una pista e tutto Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti, buon branzo Allora, qua già stanno ignorando in chat Anzi, io adesso mi spammo Aspettate che mi spammo Ok, mi sono spammato Buongiorno Davide Ah, drifting la pesca Ah, è una tecnica Vabbè, non sono esperto di Non pensavo ci fosse drifting C'è un termine Follow me on No Non pensavo ci fosse una tecnica di pesca Chiamata drifting Che sarebbe? Tipo traino No, quella è un'altra roba Buongiorno Davide Buongiorno a tutti Come è stato? Avete già pranzato? Io no No, sono freddissimo Sono freddissimo io ragazzi È un problema Perché vuol dire che andremo già nel culag Così perché non è sceso nessuno qua Non ci credo Buongiorno Roberto Buongiorno a tutti Ah, pastura con le sarde Il drifting Ah Quindi si imparano cose Pastura con le sarde E invece la tecnica quella là Che per esempio sei sulla barca E tipo Capito? Traini La pesca da traino Si chiama così Guarda, ieri e oggi ho fatto tre win Zio Perone Ieri manco una Lasciamo stare Guarda Lasciamo stare Sono staccato Non dico nervoso Ma scontento Poi la notte Poi la notte è iniziata a laggare Tutte le partite Era diventato impossibile La notte La notte veramente la gava bestia Quando siamo arrivati a un certo orario Non lo so che fanno i server Esplodono a un certo orario Eh, ho capito Guarda quanta roba sta qua a terra Che non mi fa prendere Cardio Sb sdkd Questo che non so che cos'è Non mi serviva Vabbè Possibile che non c'è nessuno L'altra dove me l'ha messa? Un giubbottino Giubbottino Mi piace il giubbottino Boh, il sensore non lo capirò mai Non pinga nessuno Eppure ho sentito passi Vabbè Sto pazzo io? Dai ma Perché me l'ha messa sulla montagna? Devo prendere una buggy per forza Io devo fare ancora una win E Provala a singolo Perché Terzetti, quartetti, eccetera Se non c'hai amici Buongiorno Mi sto provando Uah No, non me lo dire Che Ce la voglio da una vita Non riesco mai a mangiarla da parecchio La carbonara Buongiorno Sì, dopo mezzanotte La cavabesti, André Confermo anche a me Non si riusciva a giocare Oh Ma chi è stato Stu pezzo di fan Da dove mi ha sparato? Delinquente, delinquente Pam, pam Oh, c'è uno qua Che ma Oh Ma mi spara Ma Aaaaa T'ho beccato Arrivo, bro Arrivo, bro Non ti preoccupare Sto bene Ciao Sono arrivato Di scrazzate delinquente Dove c'avevi qua Vabbè Alche piastrella Qualche cosa Prendiamo la buggy Andiamo Bella la buggy Ho saputo che alcuni Stanno lasciando FB Sì, sì Vari, vari Lo so, lo so Ci ho parlato E io al momento Resto qua Resto qua ragazzi Per il momento Anna Flank No No Ancora lei Ancora lei Ti trovo tutti i giorni Nella mia lobby Basta Ancora Anna Flank Ma mi stream snipera C'ha pure le armi Incredibile Cosa vuole Dammi Anna Flank Si opera Tutte le partite La prepara io Amore mio Buongiorno Pezzo Io Matteo Pezzo Ma mannaggia Tutto Mannaggia Guarda Vediamo Non so se torna Anna Flank Dal Gulag Non ci finiamo Sta cosa Eh copre poco Copre No non conviene Non conviene Guarda Eh Non serve quasi a nulla La cassa di muni Non so Scusa Aspetta Questa me la porto dietro C'ha una E quello faccio Quello che devo fare Vabbè Me ne vado Mo mi compro le armi Se riesco Mi serve un carrello Buongiorno Buongiorno Emma Buongiorno a te Buongiorno a te carissima Secondo me Facebook Ritaglia Una bella fetta Io vorrei Una bella fetta De torta No comunque Detto regà Per il momento Resto qua Spero che facciano Un attimo Degli aggiornamenti Degli aggiusti Sulla piattaforma Tipo quello che io Sto chiedendo A loro da parecchio tempo Mi sto chiedendo Mi devono far mettere La musica live Speriamo che Riescono a prendere Gli accordi Per fare sta roba Come ha fatto Twitch O se vendono Come ha fatto L'altra piattaforma Che Che tipo Tu la metti Ma poi non rimane salvata Perché il problema È quello Però quello è un po' difficile No Devono solo Prendere accordi Per poterla passare In live Perché Per me è fondamentale Io che faccio pure musica È fondamentale Io lo sto chiedendo Da una vita Io lo sto chiedendo No Perché mi hai cambiato Arma così Madonna Quanto è lento A cambiare arma Buongiorno Comunque Ma non si riesce a entrare Ah Non si riesce a entrare Un bel po' Nella stessa lobby Non lo so Non l'ho provato a fare qua Io li becco persone che conoscono Nella lobby Però non lo so Si cerca di far fuori Tutti gli altri Poi Rivattizziamo la partita Secondo me Se si starta insieme Forse si riesce anche qua A mente calda A mente calda C'ho più la mente fredda Che a mente calda Al momento No Io Ripeto Raga Penso che Non siamo a laccio Cioè Devono risolvere i bug La mappa mi piace Digeramente Anche le armi Però devono risolvere Tutti i problemi Che c'ha Al momento E si vince Il gulag 1v2 E Lasciano per tante motivazioni Raga Anche qua Sono successi un po' Di bug Eccetera Che devono risolvere Poi Qualche bug Un qualche bug E vabbè Ma ce ne saranno pure di là Insomma Non è che Pure di là Avranno avuto i loro problemi Noi non li conosciamo Ma avranno avuto i loro problemi Sicuramente Dove vado Boh Dipende Che partono i suoni Di qua A me di là A me di là L'unica cosa che non piace C'è che C'è che C'è la Fai solo la live E basta Non puoi scrivere un post Non puoi mettere una foto Non puoi fare niente Non puoi mettere un video Ah fai la live E basta C'è di là È solo live Non ci sta niente Non ci sta niente Eh come se accendessi sky Che ne so La tv praticamente Basta No Non è vero Non è vero Non è vero Questo non è vero Stanno portando avanti il progetto Apposto hanno cambiato il nome in meta Perché stanno portando avanti il progetto Per quanto riguarda la realtà aumentata Con i videogiochi e tutto E il problema è che mo' sono incentrati molto su quello Più che capito Ma non so quanto tempo ci metterà A fare quella roba Ma molto probabilmente In futuro passeremo addirittura Qua tutti quanti con la live Con il visore della realtà aumentata Vediamo Vediamo che succede Eh ci vuole tempo Non so cosa che si fanno in 2-3 mesi Rando? Rando? No vabbè c'è pure Annare Perché me l'ha assato Per essere molto migliorato Ma aspetta un po' mi ero perso il discorso che non ho visto Questo? Eh FB dici? A A A A Eh quello si manda però Quando c'era Beppe lo mandava lui con le stelle A A A E I I Vergogna Siamo al terzo giro Dovrebbe lasciare anche le armi A breve Load out Vediamo Come trovo qualcuno sicuramente Guarda C'era qualcuno lì Che è successo? Oh mi sono flashato No Oh dove 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 Wow Dove l'ha tirato Madonna Oh no Per il momento resto qua raga Grazie mille Antonino No però sto qui Sto qui al momento Ho la partner qui Resto qui Sì che lo sto aspettando che viene quel disgraziato del mio compagno di team Quel disgraziato Mi ha detto Le 12 e mezza Sono operativo Andiamo a fare la nucleare La bomba nucleare Ho visto Sono le 13 e 08 Lo sapevo io E beh è normale Fra non esistirebbe Cioè Twitch è nato però per un motivo Non è nato così Oh perché una mattina uno si sveglia Ma vendiamo una piattaforma No È nata perché Ci dovevano fare i soldi sopra Mi sembra logico Business Non è che è nata a caso Così Giusto perché Avevano piacere Di inventare qualcosa Beh la Giovanni Non vedi quante pubblicità Partono di là Zì 12 pubblicità Alla volta Una dietro di là E diventato impossibile Guardare una roba di là A meno che non fai l'abbonamento Cioè Boh No No Mannaggia Guarda per i 30 colpi Che ha l'M4 da terra Fra Era morto ormai Eh 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 Dammi questo come serve Zio Pera C'ho paura C'ho paura raga C'è sta qualcuno sicuro Oltre lui No Mavì l'ha già comprato Disgraziata delinquente Eh Dimmi che c'ho la fennec Non c'ho la fennec Eh Mi devo comprare questo Dai Peccato Mi sono dimenticato Di fare la classe Solo con la secondaria Vabbè Questo non è male Uh No No Pensavo che c'era la porta Di là C'era il bagno invece Non ci credo Volevo uscire fuori C'era il bagno No way Lo sapevo che c'era qualcun altro Non lo sentivo Ero sicuro Ah Terminator C'ha altre due persone Che lo guardano Guardiamo Guardiamo un attimo Sono curioso Di vedere che fa Terminator Sicuro vince la partita Micra su F Mo' ci apriamo Il canale Allora Quanti di voi Fanno l'iscrizione di là Se mi apro No Facciamo le live Lì sopra Bella Salvatore Buongiorno Che culo Era quasi morto Che culo Ma lui si è spostato di là Perché di là C'era E c'è ancora Il Il Rivals Che solo chi è partner Dall'altra piattaforma Può partecipare A meno che non viene invitato Direttamente Però Da qualcuno dei partner Altrimenti non puoi partecipare E giustamente All'epoca Era Tanta roba Non esisteva Era una roba Appena Appena creata E partecipavano solo I più grandi giocatori Di là Quindi ha fatto La scelta Giustissima Ma al 300% Perché Altrimenti Non avrebbe mai potuto Partecipare Allora Allora Bella cannavaccio Buon fine settimana Buon povericcio Bella bella fra Ieri tre Contratti chiusi 15 livelli d'arma Sì ma se fai i contratti Fai le armi Fai i livelli alle armi Subito A me che sto tizio Che sta facendo Ah si gioca Il filo safe Va bene Va bene Si gioca Il filo safe Puoi starci Come strategia In singolo Poi soprattutto Mappa aperta Rischi di meno A stare a filo a filo Se ne puoi beccare uno E te lo fai Diciamo che magari Sta un po' più avanzato A volte aiuta a guardare Pure quando Vi uccidono Io vi consiglio sempre Di guardare Come vi hanno fatti Perché Può aiutare a scoprire Qualcosa di nuovo Che non sapete E le piantine Ne sei messo Ma guarda tu Guarda Non è che l'ho fatto Anch'io l'altra volta Però oltre questo Non fa nulla Dai ma puoi strisciare Vendi la macchina Vattene via No qua Qua però Non è giusto Potresti prendere la macchina Chi ne treva in safe Dove chiude Chiude in mezzo Una casa Una roba Ah così fra Bello Che culo Ma davvero Davvero sono tornato così Ciao Raffaele Buon pranzo Buon pomeriggio Davvero sono tornato così fra What Eh il problema è che le casse sono tutte prese Mi serve un'arma I loadout Dove erano scesi i loadout Eh io so dove è lui Sì Però non lo vedo da qua Tra l'altro lui c'ha C'ha l'arma Io c'ho la pistola Eh se lo becco Qua in là Dove sta? Lui stava qua in mezzo Potrei fare una roba E non mi conviene Andarlo a prenderlo così Cioè Devo trovare prima un'arma E' l'unico E' andare sul treno Forse mi sa Vedete No c'è già uno sul treno Com'è possibile? Si è buttato Ok Che è che mi lagga Cioè Pensate C'è solo le casse nel treno Non le hanno prese Guarda quanta roba Oh Eh Come faccio Ma sape che ero qua Oh No Magitta Zì No Che figlio Dio Sì C'ha tutte le Livello 29 C'ha tutte le armi Diamantate viola No Dai Però Frate Che schifo Guarda là Li prende tutti in testa Che schifo Zì Era meglio se non tornavo Guarda Dai Aspetta Utilizzo trucchi Come si dice l'inglese I'm lock Headshot Invia segnalazione Che figlio di puttana Eh lo so Lo so Guarda là Guarda là Sa tutti dove stanno Sa tutti dove stanno E c'ha Il lock Retend in testa Livello 29 Con già tutte le armi Viola Madonna Regà Godo 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 Come un porco Godo Che è morto Godo Bottazzo Bottazzo Quei cheat Godo Godo Come un riccio Bella Marco No però Minchia Abbiamo ricominciato Abbiamo ricominciato Con sta storia dei cheater Madonna Madonna Vabbè giustamente ci sono i bug Vuoi vedere Anche l'anticit giustamente è buggato Non funziona Mi sembra giusto Ma questo com'è? Questo è normale? Sì mi sembra normale questo qua invece Minchia Prima partita Giocato Dov'è questo? Questo qua Non ci credo Come ha vinto Vabbè Assurdo Quello si è spezzato le gambe da là sopra Vinto la partita No vabbè Certe volte Cosa mi tocca vedere Cosa mi tocca vedere Guarda Allora Vediamo se mi ha scritto quello del mio team Ok No Vabbè Sta ancora finito di mangiare A proposito Vado a vedere un attimo che si mangia Vai Faccio il secondo singoletto Sperando di non becca Come si blocca qua? Aspetta Aspetta Anni Recenti Vediamo se me lo fa bloccare No Recenti Come si chiamava quel tizio? Che citava? Azzurri e logo Tremendo No Mio nonno Beber No BMW BMW è quello che ho chillato nel gulag Non mi ricordo il nome del tizio Era lui? Finanza Finanza Matt No no Questo era quello che stavamo a vedere Non è Finanza Matt Era a livello 29 Mi ricordo ma quale Questo era quello a fine partita che è morto schiacciato Che si è spezzato Eh non mi ricordo Vabbè Bella Luca Pronto Bella Matteo Vabbè proviamo la seconda Come va? Vado a vedere dopo che si può mangiare Magari me lo porto qua Mangio con voi Ok Era a livello 21 29 Vabbè comunque Vabbè io comunque l'ho segnalato Ho pure scritto I'm lock Headshot Insomma Cioè che prende E locka da solo Quasi alla testa Prima tante inutile Eppure se lo bannano Poi torno con un altro account Bello Ah questa era già a terra Io sai che alzo la sensibilità Lo sapete raga Sono tentato Sono tentato di alzarla Mi vedo un po' lento Vediamo Adesso l'alzo Vediamo che succede Se smiro tutto Se sparo peggio di prima Poi giorno sono due giorni Che non riesco a fare una partita Starta tutto E poi si risconnette al profilo Mi attiviscono Quindi normalmente sono fuori Questo non l'ho sentito Ti posso dire sicuramente Che sta laggando In alcuni orari Che i server tipo Ti crasha Ti fa robe strane Però che addirittura Ti discollega dal tuo profilo Mi sembra strano Dove giochi? Ah si chiama Trump? Trump Ti faccio dire Trump Dovrebbero bannare loro IP Eh non è che è così facile Perché Loro abbannano l'IP Ma l'IP L'IP non è quello reale Capito? Mettere uno fa sullo Eh dopo te la faccio vedere La stavo provando Però Te la devo far vedere per forza Che non mi ricordo Gli accessori che io ho messo PS5 E i tornelli faranno più in là Rega Sta ancora pieno di problemi Sto gioco Quindi Tra l'altro Non ci sono ancora Neanche le private Mi sa che Forse in questi giorni Fanno Uno in singolo Stanno facendo qualcuno In singolo E basta Ma terzetti Quartetti E pieno di problemi Anche tra le richieste Di amicizie Che le accettano Le accetta Quindi Al momento Sono un attimo fermi Non li stanno facendo Bella birchetto Non c'è male Non c'è male Tutto a posto Devo ancora pranzare Mi sa che mi porto qualcosa Qua tra poco Avevo iniziato la missione Mi serve un'arma No Ancora non lo segna Ancora non l'hanno messo Regà No Giusto Un bug Figurati se mettono Quella roba La metteranno più là No Mi serve un'arma giusta Questa non è malacce Però Senza mirino Non è brutto Non funziona Ma non ti ho chiesto Di salire qua Bello Bello Questa qua È forte così Ecco la fennec Si sto ancora di giù Lo mangio tra un po' Dai Ah io sento dei passi Cioè se risento i miei passi in cuffia Possibile? No Peccato Buongiorno Buongiorno Valerone nazionale Ciao frate No tu Sempre tu Ci doveva stare Il tizio Qui lui sparava In teoria Vediamo un po' Ma vedete che ha 15 Non è male Perché è più lento La mira Rispetto all'altro Let's go bro Vediamo C'è un po' Di prove Ah per il momento Non smiro Con la mira a 15 Mi sembra Giusto Ma vediamo Ciao frate No C'ha l'autoresse Eh lucky Bisogna rifare il fight Con questo sopra Ah fammocca E via Oh ma quanta Quanta gente c'è qua Oh Oh Ma Non l'ho capita sta cosa Però vabbè Quanti ne ho chillati Qui dentro Comunque Disse qualcuno Warzone 2 Andrà tutto bene Guarda Doveva andare Per forza bene Perché 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 se no Sto gioco Sarebbe morto E avrebbe flopato Tutto Però nessuno Aveva messo in conto Che era pieno di bug Cioè non è malaccio Ma Ma sistemato Ehi Guarda chi è arrivata Guarda chi è arrivata Saretta Piricchina Ma buongiorno Andiamo a prendere questo Ciao Italo Bella Buongiorno a tutti ragazzi Avete già pranzato Avete già pranzato voi Attenzione UAB in uscita Dall'area operativa Ah c'è Va a sapere che C'aveva il sensore Fammi vedere Ah sentito C'aveva il sensore Ok ok Ecco perché Let's go bro Io Guardate Se andate voi Secondo me Li sistemate subito Fate prima Se andate voi Guardate Riuscite a fare anche di meglio Oh finalmente Comunque ho la sensibilità Più alta Fra Non trovo meglio Guarda qua che faccio Incredibile bro Ma no way Ma perché Sono tanto brava Assolutamente Sei bravissimo Orecchiette con le rame Di cipa oggi Le rame di cipa oggi What No non lo so Non lo so che c'è da mangiare Devo andare a controllare Esistono Aggiornamenti manuali No a manuali no Eh 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 Ma non ti dà Un errore specifico Di solito Quando ti crasha così Ti dà tipo Errore 63 40 Ti dà un numero Neanche un numero Ti dà Perché l'unica E controllare Sul Google Sul sito Mettere quell'errore Lì E vedere che roba è Ma lupo Saluto a preci Ciao Giuseppe Buongiorno Buongiorno Mamma lupo L'ha fettato Sì sì Non l'ho mangiato Che ci sta da mangiare Cioè Ah c'è di nuovo Il polpo Ok poi Poi No il polpo Il polpo Eh niente È arrivato il polpo Signori Mangio da te Vieni Vieni Non so se ci stanno Anche le patate Penso di no Stavolta Solo il polpo Un ristorante Quanta roba da mangiare C'è Attenzione Lupo Restaurant White Venite tutti A mangiare Il ristorante Di lupo bianco Vengono Vengono Signori Vengono Buongiorno Pierluigi Buongiorno Allora Io c'ho Due tre problemi Mi sa che qua Era sceso il tizio Che avevo visto prima Ma non so dove è andato Ma distratto Mamma lupo Un saluto da preci Oh Aspetta Aspetta Ma Ah che è l'M4 d'oro Ah madonna E che puoi fare Non puoi fare niente Ho sparato io Ha sparato lui L'arma più forte Eh Digia Sto gioco Con le armi rotte Non ci puoi fare niente Che è successo qua Aggiornamento Aspettate che mi è arrivata Mille da FB Eh guarda Senza manco farla apposta Non ho capito che vogliono No lo so No lo so Devo guardare bene Non si capisce niente Vabbè Il polvo Il polvo Dall'altro kulag Aspetta che gli do Quattro colpi Della pistola Dove è andato Non lo vedo più Eh che cavolo Fuori Vai a letto Vai a letto Bella Dalilo Buongiorno Buon brazzo ragazzi A chi ha mangiato Già A chi sta mangiando Non lo so No io ho detto Mangio qua con voi Appena è pronto Per il profilo di sconnesso Bisogna cambiare Le impostazioni della chat Eh capito Capito Non so se c'è ancora Capito Dove stai Dove stai Dove stai Capito Antonio Allora Modine ovviamente Quel problema Alternativa Tortellini in brodo Tortellini pure buoni Devo rimangia Basta Tu Vatti vivenza al polpo Ma qua non era al posto di prima, regà Sì Forse Se ho fatto fuori tutti quei quattro tizi No, magari è un posto simile No way Eh, lo so che dobbiamo fare la nuke Eh, eravamo rimasti Oh, 12 e 30 online Andiamo a fare la nucleare Andiamo a fare la bomba nucleare 12 e 30 Sì, sì, sì Mi sto aspettando ancora Quelli del team Ho visto la bomba nucleare tu sta Buongiorno Emanuele Buongiorno a tutti ragazzi Ancora Oggi gnocchi al tartù No Allora facciamo una cosa Mi conservi per stasera Che a cena vengo da te Che mo' già devo pranzare O se no anche il pomeriggio Venga a fare lo spuntino Vabbè dai Mi tengo il mitraglione Eh, ma non mi piace questo qua però Pure Vabbè Sì, sono morto da 3, 2, 1 Avanzenef è molto meglio Uh, dimmi che lo ti capisci Ma perché ogni volta laggiù No way Ma Giorno Cristian Non posso mettere la piastra Riccardo Trova il giubbotto Non posso mettere la terza piastra Senza giubbottino Grazie Giuseppe Giorno Cristian Che cos'è l'uplo la bomba? No, praticamente Dopo che fai 5 vittorie di fila Puoi attivare una missione Che Dove Puoi tirare la bomba nucleare E fai praticamente Fai fuori tutta la Tutta la lobby Fai fuori tutti quanti E vinci la partita Però ne devi fare 5 vittorie di fila Noi eravamo arrivati a 4 L'altra volta Per una Per una Non siamo riusciti ad attivare la missione Ancora UAV nemico in zona Ti prego Fammi uscire UAV fra Niente Eh questo è meglio dai Giubbottino trovato A posto Se mi ha chiamato l'UAV Deve stare qua in zona Devo muovere tramite ripari Perché sennò è un casino In più Mi serve il lancio Macchina non c'è Ma non c'è una Non c'è un'auto Ah si è messa Bravo papà Sì sì Ti resti Non ti preoccupare Sì sì Ti stai restando davanti a me Tranquillo Ho paura Ma vado a luttare E faccio la stessa fine sua Guarda Guarda che succede Però mi serve l'arma sua Perché Eh vedi Eh c'ha quella Quella buona Wow Autoressa Autoressa La maschera Faccio No il gas No il gas Vabbè ce la dovrei fare Per cavolo Ecco per esempio Odio che qua Non puoi stare fuori il gas Mori Non dico subito Ma quasi eh Questo ti segue Chi chi Io bro Ci sono Ok Bella bro Eh mo Te faccio sapere Che ci sta Qualche Vediamo Sostenitore Io stavo aspettando Quelli del team Che dovevano andare A fare la bomba nucleare E mo Mi hanno detto Alle 12 e mezza È passata un'ora O uno si deve incazzare Dimmi che non mi vedi Ti prego Dimmi che non ti giri Non ti girare No se è girato Vabbè ma perché No non c'è Vabbè che cazzo Dai Oh no 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 Pure Assurdo comunque Mi hanno tirato Mi hanno tirato di tutto Ci mancava la nucleare Che mi tirava addosso Guarda Mannaggia Discord Ma va 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 Da tre ore Aveva un'altra attacca A grappolo Io non ce lo voglio crede No Ah tre Ha la maschera dorata Bella Questo è uno zaino Un gulo Eh non c'ho lo zaino Per portarmi Tutta sta roba dietro Peccato di dio Stavano pieno di roba Questi Ma pieno zeppi Proprio 24 cristiani Che che li bandano Ehi Che Da te È impossibile Che qua non c'è nessuno Ci deve stare qualcuno 23 cristiani Non è impossibile Che non mi compare qualcuno Da qua Qua mi ricorda molto Qualcuno ha giocato a Blackout Il vecchio Battle Royale A pagamento di God Mi ricorda molto E infatti Si sono sparati qua Eccolo là Vedi Poi vorrei capire Me l'ha tirato quel tizio lì Me l'ha tirato Il bomba No C'è un cecchino Famme infame Delinquente Dove sei Eccolo Ha tirato una botta da là Oh Il tizio che stava qua Oh Si stanno agganciando Che faccio Vado 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 Che vado Si è buttato Vado Vai Vai a casa Vai a letto Eh il problema Che mo' mi devo buttare io Mi butto qua dentro Ciao No ho finito le piastre Ah Pazzo Shish Che è stato Camion O più che altro Mi serve Mi serve qualcuno Da killare Per piarmi le piastre Bravo Bra C'è un grande Grazie mille Poi po' tu mi servivi In questa partita Mi servivi tu In questa partita Zì Non ci crederà Me lo sono chiamato Mi serve qualcuno Da killare Per le piastre Boom E' arrivato lui Ma altre piastre Non ne avevi No Peccato Ma si stanno devastando Aspetta Aspetta Mamma lupa Aspetta Mamma lupa Aspetta Aspetta No 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 Grazie E' una fase delicata E' una fase delicata Se vingo Vingo 300.000 euro Mamma No che è clippato Oh no Oddio mio Ancora 5 Sinistra Ancora 5 Marco L'armazzo La figura La maschera Zì No Ho finito Le cose Confermato Non può 3-1 In zona Attacco imminente Sì Andiamo Sì Mamma Ho vinto 300.000 euro No No Ho vinto 300.000 euro No sto scherzando Non è vero Però ho vinto la partita Bella raga Zì Zì Mazzini Dov'è Mazzini Mazzini Andiamo GG 100 a me Buongiorno Ma anche 150 a te Bro Assolutamente Come stai Raff Uè non mi aspettavo Aspettate Non possiamo uscire Deve finire tutta la È buggata la lista Per le vittorie Bisogna aspettare tutto Madonna Povera mamma l'uva Da 3 Una fatela E' corsa qua Ho detto Che hai vinto Ho detto Ho vinto No sto scherzando Buongiorno Giuseppe Mad oggi Pensi che questa Era World Series E vincevo così Il singolo Quello Che hanno vinto Di 100.000 euro Dove avermi accasato L'M16 L'avevo accantonata Per maxare altre Adesso la sto utilizzando Mi si rimane Fa paura Eh ma se provi Il mitraglione Sciogli ancora di più Chi è stato Francesco Grazie mille Per il follo Benvenuto Aspettiamo che fa Tutto da solo Si esce Bella sta partita Raga Madonna Fino alla fine Non si sapeva Se perdevo Vincevo Meno male Vabbè Ma sono giocata bene Dai alla fine Ho avuto anche il culo Di trovare l'autoresse Da quello lì Che ho killato Perché senza autoresse Lì sarei morto Non ho capito Quello da dove Mi ha sparato da sotto Quando mi ha fatto Nel gas Oh Luca Grazie del follo Benvenuto 4 minuti Per questo endgame Dovrebbero bastare Non lo so Sono al massimo Me lo Me lo scarico tutto Vediamo Carina Carina come partita Dai vi faccio un altro singoletto Che sto Che sto in forma Aspettate che nel frattempo Cerco di capire Quelli del team Dove sono Perché la bomba nucleare Dovamo farla U C'è scritto U Anzi Mo scrivo proprio nel gruppo Ma non dovevate venire Per farla O ritaggo Chi è stato Dominico Grazie del follo Benvenuto Non dovevi venire A farla Bomba nucleare Dacci tua Li sto taggando Dani Tosco Andate venire A fare la nuke Comunque Caffettino Signore Lo volete un po' Alla vostra Alla vostra Il RAL O il RAL Oppure l'altro L'RPK Luca Io Adesso Non ce l'ho livellato Il RAL C'ho l'RPK Nelle mie classi Insieme alla Fennec Oh Edoardo Grazie per il follow Anche a te Benvenuto caro Pensavo che ti confermava Non è riuscito A confermarmi Perché Io ho visto Mi ha sparato da sotto E Dove stava il ponte Sotto praticamente Mentre io salivo Lui mi ha sparato da sotto Quindi io Ho strisciato Verso il gas sopra E non è riuscito a confermarmi Perché non è riuscito a salire E mi sono autoressato Anche Magari ha pensato pure Adesso muore nel gas Sai anche E non mi è venuto a prendere sopra Invece Tenevo doppia autoressa Se morivo nel gas C'avevo un'altra autoressa A voglia Le maschere dorate Fanno la differenza In gioco Infatti Quando le trovo Assolutamente Le piglio immediatamente Perché ti permettono Di poter Giocarti Capito La tua tattica Dentro il gas Puoi restare un po' fuori Sono fondamentali La maschera Quell'altra La finisce subito Lupo culone Wow per una volta Fammi venire a giocare Vabbè Un po' di culo Ci vuole ogni tanto Senza nemmeno Mezza piada Lascia stare Comunque se vuostra Gioca l'uomo Grazie GG Anche se Sto cercando ancora Di prendere bene la mano Qua perché Il movimento è diverso Ancora non riesco a fare Tutte le partite Fatte bene Top Devo ancora Prire bene la mano Capunque Pure ho appena preso Il caffè Ci sta Ci sta Ora di pranzo Assolutamente Però io ho sbagliato Perché ancora devo pranzare Ho preso prima di pranzare Vabbè Dopo ne piglio un altro Let's go bro No Non ci può scherzare Tu vinci Boh Sì Ha quei cazzotti No Quanta gente Oh cavolo Comunque mi trovo meglio Con la sensibilità 15 Chiamatemi pazzo Ma ho alzato La sensibilità Perché in realtà Qua è più lento A girarsi Quindi se warzone Usavo 12 Qua 15 Ho cercato di capire Questo dove Sopra Dobbiamo No Cosa è successo Perché non è esplosa La mina Secondo voi funziona ancora Questo lo si faceva Vabbè Faccio un'altra roba E' veramente così Ecco qua E chiudiamo la storia Ah c'era una roba Sull'altro Però a volte Lo fa anche qua Ti butti dalla scaletta E ti aggrappi alla finestra Però Vabbè Allà chi Non l'ha fatto Stavolta Sembra Mitraglietta O quello Aveva minato Tutta la stanza Sopra Ma meno male Che quell'altra Non so che è successo Si è buggata Non è esplosa Ci ha fatto la finta Di esplodere E poi Se n'ero morto Entra Lupo Io con l'aggiornamento I passi si sentono E' sempre uguale A volte si A volte no C'è ancora qualche problemino Io ho messo Come audio Cuffie Essendo un pochino meglio Ma ancora Ah lo faccio anche Uh Esco Ok GG No ho finito le munizioni Guarda Guarda Deve uno sistemare ancora sta roba Se ci sono delle munizioni a terra Ma perché non me le prendi in automatico Le devo prendere io Mi fa perdere un sacco di tempo Oh Angela Grazie del follo Benvenuta Uè gattu Gattu Eletto sul gruppo Eravamo rimasti In teoria E dovevamo provare A fare la bomba nucleare Oggi A ore di France Alle 12 e 30 Andovini che ore sono Ah Eh no Lo mangio Lo mangio qua Lo mangio qua Insieme a tutti Sa bene No Costanza E' impazzita E' impazzita Costanza Grazie per l'abbonamento Al canale Benvenuta Grazie per la sub Gattuso Bottazzo Bottazzo di un gattuso Bottazzo Perché tu non fai Guarda solo tu Guarda guarda Costanza ha fatto L'abbonamento al canale Tu dove stai Pezzo di un armando Gattuso 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 traditore Chi è entrato Gattuso è entrato Grazie No chi è Non è Gattuso Aspetta Aspetta Ok Mamma lupo Ho fatto questo Nella finestra Chi è Chi è Chi è entrato Che è semino Che è semino di rimone Scartalo Eh Faccio Non ho capito Ho capito Signore Chi è che è entrato Che cosa è Madonna Ma chi è che sta parlando Ah ma ero mutato Chi è che sta parlando Chi è entrato Pronto Uè Infame 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 Ho dato una botta da solo Aspetta che scotta Sì Infame Infame Delinguente Delinguente Cosa Comeriggi facciamo la sub Dai Ah La sub La sub Ma chi è entrato oltre te Che non sento basso Ah Bombo Bombo Pdf Eh Bombo Che l'ha tentato per fare la bomba Capito Ah Bombo è venuto per fare la bomba Bombo è venuto per fare la bomba La faccio Cavola Vedi che Ma io mangio C'è due cose Importanti Che ti ho organizzato Lupobot Ah Che poi dici che non ti voglio bene Non ti penso Non mi pensi Tu non mi pensi Per conno Non ti pensi Non ha testato sul naso Mannaggia Quando Quando stai Che c'è due minuti Che puoi montare la chat Che mi puoi telefonare Mi chiami Guarda Dopo 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 Tanto Sì Sì Non ti preoccupare Tanto sono già organizzato È qui Ah Ok Niente È tutto preparato Non si può Uh aspetta che c'è una No Non si può Decido io Decido io Va bene Decido Poi mi dai 1000 euro Alla fine del mese Ciao Va bene Ciao Ciao Bocca al lupo Per la nuke Ciao Speriamo bene C'eramo Wow Wow Bambam Bambam Ma tu ci sei Bambam Sì Sto facendo Sì ma dovevano venire pure Tosco e Dani Fratele Un'ora fa Si sono persi Vabbè Quello sta Uno sta pensando A Non lo dico neanche A cosa sta pensando Ah sì sì lo so Eh Sta pensando A Alle Alle conigliette Ecco Chiamiamo così No Beppe Io comunque C'ho il polpo davanti Che mi chiama Però Sì Che devo fa Aspetta Eh ma aspetta C'ho la roba da fare Qua Devo prendere Un botto di soldi Ho fatto il contratto Ho killato un altro tizio Che mi voleva pushare Faccio Wavì Ma quando magni Quando esce Peggi Cosa Aspetta Aspetta Che non riesco a Ma quanto Ah ma quanto Magni Eh tanto Mangio tanto io Porto spesa Aspetta Fammi Fammi cambiare Quest'arma Allora Metto l'RBK Che è tanta roba Forte Vabbè Poi la secondaria Mi tengo questo Ho fatto Wavì Ma me lo tiro Mangio tutto io Eh ci sono i tizi Dall'altro lato Perfetto Si vola No Antonio della Torres Antonio della Torres E' impazzito Antonio della Torres E' sgift E' sub A me me l'ha letto in inglese Comunque me l'ha detto E non so perché Ragazzi Antonio mi ha regalato Un abbonamento in chat Controllate A qualcuno di voi E' arrivato l'abbonamento In regalo Molto Sì Un po' Un po' Dispersivo Ma devono risolvere Anche i ping Non si vede niente O i contratti Come avvistato Uno l'ho visto Comunque Magari se salgo Qua lo becco Dove stava la scala Qua per salire Eccola Però se mi vede lui Sono morto io Qualcuno me la mandi Buona Capoccione bot Bella capoccione Un logo Che culo Meno male Che ha deciso Di saltare Quando si è girato Verso di me Che culo Questo me lo prendo Vabbè ce l'ho già La pistola Uh però aspetta Io secondaria No questa è buona E l'altro era Qua dentro Tipo Bamba E i soldi pure Li devono sistemare Ragazzi Sì sono d'accordo Matti Randa Lupo Non mi sono ancora Arrivate le magliette No come Eh bisogna Bisogna contattare La segretaria Lulita Anche mi sa A cosa Non è arrivata ancora Eh ma Ah lulita sta male No Aspetta 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 Zitto Zitto Guarda lì Dentro il bagno Con le mine Sono morto Fra Ma io lo dovevo Immaginare Balordo Di un black Balordo Dobbiamo fare la nucleare Ma questo così Mi cola Ma il polpo Me lo magno Cola Le patate No non ci sono le patate Questo è il gurag Qui dentro Eh lulita è ammalato Amore Ti nominava Beppe Che dice Che non gli sono arrivata Ancora le magliette Mmm Buono Bella Carlos Che che ci ha fatto Il tuo compilano Carlos Aguri Eh dai No Ma ieri Alla seconda Avete perso Alla seconda La prima L'hai remontata Alla prima Sì 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 L'hai fatto il torneo Mentre che ero Mentre che ero Al lavoro No la terza Abbiamo perso La prima Era quella Che percevate La seconda Eh no La seconda Let's go Tutte e due Io Madonna quanto odio Quelle pistole Oh La revolver Il mio da giovedì Scorso il di certe A Bebs Re Giuliani Frost Eh ci vorrà un po' Ah giovedì Calcola che Eh minchia È passata già una settimana Eh ci mette un po' Comunque ad arrivare Mmm Come sai oggi L'unito È passata soprattutto Quella cosa C'è polmoni Un dolore Devo avvicinare Sto piatto Mannaggia Io sono ancora in partita Ragazzi Offrendo il singolo Meno male Meno male Dai No Non mi è uscita la notifica Non è uscita la notifica Non ho visto che c'è il cuore Eh guarda là Non è uscita la notifica Niente Niente si è buggato frano Non mi è uscita la notifica Pezzo di un Cristian Zaccaria Vergogna Vergogna Vai a letto Vai a letto Grazie mille per Per l'apporamento Grazie per Essere ritornato Quanti mesi Prova a fare Punto esclamativo Su portaggio Vedi quanti mesi ti dà Mmm Non mi riesce Allora eccomi Che volete Non mi hai toffrire di singolo Pronto 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 Augg Sto pure mangiando Le frate Sono multidasking Comunque Alzo a trovare sensibilità Mi trovo meglio Un pelino meglio Ma c'è una finestra invisibile lì Vabbè Ma ha fatto scende Guarda io quanta roba trevo Manco m'ha luttato Sto pezzo di fango Si è messo lì a cambra Con le mine Non se ne è fregato proprio Ah tu ridi Devi che schifo No però m'ha preso Mi pare l'arma primaria Ma però è una vergogna Si Ha messo climore ovunque Questo nei bagnetti Nelle cose Tenesco voglio andare a prendere il lancio Vediamo un attimino Avanzio Emanue 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 Nove mesi Emanue Emanue Non ho visto Bella Alessandro Buon pomeriggio Buon pranzo Eccolo qua L'RPK Ma dopo controllo un attimo L'hai fatto pure tu Christian Ti è uscito quanti mesi? Come state conciati voi? Sul gruppo che hanno scritto Che non posso vedere Hanno risposto Dani e Tosco No? Regà? No 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 non hanno risposto No non hanno risposto Vabbè niente Dobbiamo provare a fare noi la nucleare Eh dai ci proviamo Dai eh E' fatto? Secondo che finisco un attimo Questi mancano punze Eh se aspettate pure me fra sono rimasti 34 a me Tanto tra poco muoio io mi sa Oppure se vinci da solo eh Quindi Ah è bello C'ho una classe con le pistole Con le doppie pistole Ma quale? Provata Io quelle sto facendo Eh io ce le ho Ce le ho già Ma mi vengono proprio Mo le ho prese Voglio provarle C'è là il set E ce n'ho uno che ho fatto Non so se è corretto No no ce l'ho ce l'ho ce l'ho L'abbiamo fatto insieme a Dani Però mo lo devo provare E allora mi sa che gliel'ho Me l'ha chiesto Gliel'ho mandato Mamma mia le RPK Fra Poi c'ha 75 colpi Prima che le finisci Tutto 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 Continua a sparare E mo? Invece ti pompa da lì Eh non so che fare zi Trenta persone Terzo giro Fra voglio fare kill Però tutti che cambrano Non ci sono taglie Capito? C'è Beh Dove ho chilato sto tizio? Era roba Ancora Questo c'ha un'altra autoressa Attacca grappolo Pistola rianimanda Ce l'ho già Stordenti Niente zi Niente Però c'ho da soldi Vediamoci No Eh si blocca il carrello Oh Dai ma sei scemo Non ci voglio credere io Stavo per morire Perché si era grappato Ve lo giuro Vabbè a certe volte Rimango sconvolto A volte si è aggrappato Le cose E poi non si stacca E' una scimmia E' una scimmia E' una scimmia E' una scimmia sto personaggio Just tomorrow Metti il settaggio sotto te Che non senti Di coppio le armi Vergogna di Ah così Hai più possibilità Di killarmi Se mi trovi contro In partita Ho paura Prima sono andato al carrello E c'era un tizio Che mi ha sparato Fa vedi qua Fa vi finiti Poi tutti accamperà Eh ma vi nemico in volo Ah ma c'ho un fantasma io Ah 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 Godo Uh Uh amore mio Vieni qua No ma ha visto No Eh ma che li giocano insieme No 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 però No che schifo Si sono due Che giocano insieme Hanno fatto squadra Con la chat Di prossimità E' morto lupo No Fammi giocare Ma perché Devi chiamare Mamma mia Sono rotte Bastardi Comunque Stavano a giocare Insieme Eh li ho squagliati Con le pistole Fra Clippa 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 Lo uso Lo uso Lo uso E per Per la mira E tanta roba Servono Che infami Comunque Fra Maschera dorata Che mi serviva No vabbè Fanno schifo Una roba assurda Ah sotto la base No no Sotto la base No No Sono una grande cazzata Non li usano neanche I top player Su warzone No Al massimo si usano Questo qua Che ti ho fatto vedere Ah non dovevo Sparare Arrangea In modo di prendere Forza Alcosa No i loadout Solo le armi single Se possono prendere No Guarda come son morto Uno alle spalle Son morto No Son morto Con una mina Son morto Con la mina Mi ha killato Una mina Dietro Vabbè Che sfiga Mi avevo fatto Aveva l'autoressa Pure lui Tra l'altro Quindi capito E' morto Prima lui E' arrestato Prima Son morto Eh perché è buggato Domenico Quei mirino Ti leva il rinculo Che è questo Lo stanno usando tutti Io prima usavo Il VLK Però Che mirino Eh vai Dio Buongiorno Scendi dalle nuvole Tu scendi Dalle stelle Tu che giochi i tornei Non lo sai Mi sa il mirino Dimmi il mirino Ma che player come di tvs No vi dico il nome esatto Aspetta Sto guardando come finisce Naomi Camper Sto guardando a Naomi Aspetta La gente Mi cazzo gioca Mamma mia Mamma mia vergogna Mi rendi conto Io l'ho sentito Verso le 12 Mi fa No vengo tra un po' E si è addormentato Si è svegliato adesso No Naomi Dammi tempo Che inizio a prendere sempre di più Un attimo la mano Ma mo ho capito come devo fare Io mi vedevo lento Sempre per colpa della sensibilità Perché 12 qua Non corrisponde al 12 di là Di warzone Quindi l'ho usato Ma tu Dani Ho capito già Sei poco serio Vergognati Vergognati Io mi sono messo le sveglie stamattina Per farla nucleare Non mi sono svegliato Ha vinto questo Mi lo mangio A sto giro c'è finito No C'è finito il lupo In bocca a Naomi Brutto Strano che lo guardi e muori Vieni su discord Fra Vieni su discord C'è sta bomba black La fama ma nucleare Si si O te che c'è bisogno di un'ora Per scaldarti Ti metto nel fornetto Supportaggio Oh 5 mesi Cristian Grande pure Cristian Bella Cristian 5 mesi Ok io ho finito Perché non mi fa abbandonare Ok Mi devo copiare quella classe Ma tu vuoi i vissetti delle pistoline Mi devo copiare Questa classe qua Wow che è partito Non mi fa posto Va sentì ma Ma vi dico il nome della canzone Ah è di Tiesto la canzone Ok Accordeao Alcuno la conosce Questa qua Accordeao di Tiesto Me la devo salvare le preferite Datemi un secondo No 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 Rimettiti Vai l'ho salvata le preferite Questa è bella È storia La nucleare è la cosa più stupida No c'è sempre stato su code La nucleare Magari su BR Guarda che non è facile farla Magari su BR potrebbe rovinare un po' Il gioco ma Non è facile da fare Devi fare 5 5 di fila E più la devi fare la sesta partita Non è facile Ieri siamo capitati In una partita in cui Volevano fare la nucleare E l'hanno persa Come si faceva a copiare Una classe Di qua Io faccio qua Ah ecco Qua rinomina E la chiamo così Qua fai copia Quindi fai duplica In FSDD Ok Poi in FSDD Mi dici il mirino qual'era? Mo te lo dico Il mirino quello buggato Si chiama AMOPV4 AM OPV4 Bro Ok Paraparara Paraparapara Fantasma dov'era? No c'era massima allerta No fantasma Gli avevo messo Sai che mi ricordo? Che c'avevo in quell'altra classe? Aspetta Ah massima allerta Ma non funzionava Massima allerta Io l'ho messo Non me lo dava Allora non c'avevo Fantasma Se è invisibile La WAV Cosa eccetera eccetera Tracciante Localizzatore Rifornimento Inizio unità extra Di equipaggiamenti letali Mani veloci Ah No il primo Metto avanguardia Dai che buono Devo rifare le pistole però Qual era il set? Il settaggio le pistole era Steelfire Grilletto Bruen Eh aspetta Che mo lo devo rifare Steelfire Grilletto Bruen Che cosa è qua? Siderarm L400 Caricatore 12 Questo Caricatore 12 Laser Questo qua E poi metti l'impugnatura Le agimbo Perfetto Devo vedere solo se avevo fatto Le ci siete regà voi? Sì sì La liberazione le avevo fatte? No No Ah era forte già così Vabbè allora non le faccio Mo metto questa come Posta come preferita Perfetto Zio Vai Mo vi invito E' sempre se vi trovo Bombo Ehi E non mi appare online Io ti vedo Io pure ti vedo Ehm Ok allora apro il coso E' entrare da me Pa 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 Vai Arriva anche Dani Non so quanto ci mette a svegliarsi Vieni vieni Venite venite E' entrato bombo Come on come on Ecco me Vai Un momento Forza terzetto Sfrenato Direbbe ho trovato un team da sei Che ci ha killato E qua Eh No Ci è infiltrato qualcuno Jack siamo solo nel team P bro Esco? Jack? Sì siamo Siamo solo Tra team Grazie mille P bro Chi era? Chi era? Mi sollo Allora 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 fermi Movi lì con il chat Che ha detto Il gioco No il gioco è pieno di problemi Li devono risolvere Ehm È pieno di bug Cioè È giocabile Ma a volte non è giocabile Dipende Ci sono giorni dove si gioca meglio Giorni dove si gioca peggio Non devono sistemare Eh bro Stavo aspettando che arriva Dani Del team Che ha scritto sul gruppo? Lo leggo Eh gli iscrivi Di venire su discord Sì Ci dovrebbe collegare adesso In teoria Vabbè fammi uno Terzo e poi viene lui Ma pure Dosco dove esserci Non so che abbiamo fatto Sei arrivato? Rando? Chi è? Randa Sei arrivato? Chi è? Chi è arrivato? Francis Ah è arrivato Francis Chi è arrivato? Che dove è arrivato? Almeno non mi sente più le cose Ma chi è Luca? Mi sente più quando arriva Ok No stavamo aspettando da anni Penso che Non c'era che era lui In realtà io lo sto aspettando da due ore ormai Eccolo È arrivato? Sì Eccolo Non lo sento Come ero svegliato porca puttana Non fa tutto il po' rispondere Ma che tu sei svegliato Ma vergognati E tu ride Mi ti aspettavo l'ore Mo se ci vengono Vabbè lo sciolta lo so che sei puntuale Sì sì Dai fammo sta nuke raga Mico anche ieri ero puntuale Vabbè pure ieri No No Hai detto 8 e mezza Sei arrivato alle 9 e qualcosa Ah vabbè mi è arrivata più tardi la pizza Eh mi è arrivata più tardi la pizza Allora ieri la pizza tardi Oggi mi ero svegliato Però mi sono addormentato Domani Mi è arrivato Mi è arrivata Domani mi è arrivato il medico De famiglia a casa Mi doveva tagliare le unghie Domani esce la scusa Che dici? No domani la scusa sarà È arrivato il medico di famiglia A tagliarmi le unghie Sarò io Ventiate da me E state in partita Non lo so Siamo in partita Mo stiamo a fonderse Mo stiamo a fonderse Mo stiamo a fonderse Mo stiamo a fonderse Ho fatto un po' di riscaldamento Sto pure mangiando Sto pure mangiando il polpo Però È più grande di te Ok non mi sono sporcato Tappo 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 Mi fai morire Quando parli e mangi Mi sembra Maurizio Costanzo No E mancano quelli sul viola Pezzo di Beppe Diciassette mesi qua Più del viola Non lo so Quanti saranno Ventiquattro? Vergognati Beppe Vergognati Ci saranno più Ventiquattro mesi Che Gufi Dove andiamo? Comunque Battlefield Pure ha fatto flop Di brutto In realtà Battlefield 2042 Ha flopato Mi sa che Trambolo chiudono Ha flopato un sacco Dicono che è stato Forse uno dei peggiori Eh battlefield Mh Merda No c'erano I vecchi Che due o tre Che hanno fatto Dei vecchi Che erano bellissimi I vecchi I vecchi Quelli che hanno fatto No 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 Broom 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 Ho fatto con la pistola Questo Preso soldi Prendo soldi qua Prendo biscotto kebab Di qua Un biscotto kebab Qua Stiamo calmi Calma 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 Buono 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 Dove 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 Devanti Atterrato No No Sono a finestra Oddio È sul balcone È sopra Mo scende forse Grande Grande Non me l'aspettavo So passato nel vigolo Pensando che fosse Dall'altro lato Invece Ci sono Vabbè Digi Buoni State buoni Buoni Non l'ho provata ancora Perché sono passato alle doppie pistole Emanue Ho fatto una strage prima Con le doppie pistole Ho levato la fennec Preferisco le doppie pistole Arrivo C'è levato Ce l'ho sempre Però Non la sto usando Perché Mi ho messo le doppie Ce l'ho la build Oh c'è gente C'è gente Ah parla Parla Sì Se sparano qua giù Vado Parlatemi Oh Che cazzo è successo Chi mi sta a sparare Fra cosa Dov'è Ah È lì dietro È pure dietro No Non ci voglio credere Non lo vedevo Dicevo Ma che è invisibile A terra Vabbè Mi faccio il culo Non tacci le pippo Buoni Ma che buoni Venga al sicuro Ma è al sicuro Non ci credo per stare sopra Oh Mi entra Vabbè 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 Andiamo 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 Pronto Pronto Ma che io che non riesce A un A hug A hug Ogli Dai dove fin si sta Stava rufando Il ciclopedia Il ciclopedia Ha messo il follo Alla pagina Niente Stiamo ignorando di brutto In chat Vedo Guardia di finanze Iniziate a seguirti Inves ha messo Like alla pagina Like alla live Ci sono i pinguini Pinguini tattici nucleari Come faceva la canzone Questa l'ha portata a casa Sì sì Abbiamo vinto questa Eppure le altre Le prossime Ma questo c'ha più colpi Meglio questa Gente mi sa Dove Che ne so io E di me Guarda che hanno tirato Un wab Qua dove sto io Bella Rocco Bella Rocco si freddi Buonasera E scusate E no Volevo dire Volevo dire Bella Rocco Buon pomeriggio Tutto a posto Stavo mangiucchiando E stiamo cercando Di fare la nucleare Ma Dobbiamo fare 5 vittorie di fila La nucleare Se sei ciccio gamer Sì Che bastardo Che sei Sono il lupo bianco E sono il capo bianco E sono il capo bianco No come era la cosa Che aveva detto Koga Dentro casa Il capo gruppo No ma quale capo gruppo Guarda qua Sono di morto No No era Sono lupo bianco Sono lupo bianco E sono il capo bianco Di miei lupetti Che c'è Che c'è Ha 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 Che non vedi team Questa arma settata così è brutta Non fa niente Ma il signor nico come sta Faccio arrestare Faccio arrestare Sta male No io lo vedo in forma Ma mattone da qua Zii Sono tra le 30.000 persone C'è soldi per arrestare Non fare cazzate dai Non perdiamo la partita Il corpo è buono Non c'è uguale Bello morbido Ma è leggero A me non cazzia Da domani capo bianco Da capo plazzo A capo bianco Un attimo Guarda ma quanto ne è rimasto Di Ancora un po' Eh si Andiamo di farlo fuori subito Come stiamo messi Come stiamo Andiamo Ah beh sono rimasti Pezzi piccoli No Wow qual pane Inzuppato Sarebbe buono Però dopo in grado Devo fare la dieta Che partito Non ne ho idea Dove mi ha ucciso Che cosa è partito All'improvviso Un video in inglese Ma Ma l'avete sentito anche voi Ma l'avete sentito pure voi Sì 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 Chi cacchio era Che gli ha fatto partire Sta roba in inglese Vabbè Arrivarti Invita l'anima No Entrate voi Ok Eh mi ha invito a me Entra col party Entra col party Eh ho capito Mi devi invita La dieta La dieta Oh ragazzi Un'oretta che mangia Ma ora mi vado a Precio ancora fame Mi vado a prendere Qualc'altra cosa No 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 Telecamera No 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 Hai lotto il cazzo Pronto Allora Vorrei uscire a fare la nuke Solo per la skin operatore E noi vogliamo farla No Ce riproviamo Ce proviamo Dai dai Mettiti sotto Vai Ma non trovo Warzone Per un attimo Come non trovo Warzone Che significa non trovo Warzone Siamo dentro Warzone Buongiorno Gero Buongiorno a tutti Una cotoletta Ma la devo far prendere Ho finita Azz che fama A me si sta riaprendo Lo stomaco più di prima Eppure sto mangiando da un'ora E che devo fa Che bello posso mangiare Non lo so C'ho la pasta al forno Oh No 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 E non lo so Come ti chiami Telecamera Telecamera Buongiorno Mirko La rubo bianco A balena bianca Un attimo No Eh vuoi farmi girare Mi vuoi fare girare io E mi sono lasciato con la ragazza No No Ma assolutamente Ma ci mancherebbe altro Ma se voi la salutiamo No No Va bene Minchia regà È impossibile trovare Warzone Su Warzone Fatti i cazzi tuoi Allora Pomeriggio Massimo Pomeriggio Vada Lo gg Bro Bro Dai l'avete visto quel video regà Spero Di Roberto intervistato Roberto intervistato Come si chiama Ah non lo so Che cacchio vuoi Oh niente Era un'intervista E volevo chiederle Ma Ma lo sai che adesso ti chiedo I Come si chiama I cosi La Che non posso apparire Ma non c'è nessun problema Roberto Se non apparire Non Non la facciamo apparire Cheat E invece Lo conosce tutta Italia Adesso Perché è apparso Vabbè Ah e Vabbè ma intanto Che c***o Mi volevi chiedere E allora che Però Ho aperto un video Me lo sogno La notte Me lo sogno Giuro che noi Ligori Non siamo tutti così È stupendo Quel video me lo riguardo Ogni volta Troppo bello Lo voglio portare In live Ma tu immagina Se gioca una partita Con noi Qua in mezzo Comunque Come Come stiamo Andiamo Perché non trova partite Andiamo con lui Non trova partite Venite con me Trova partite Bottazzo O comunque Non so perché Tu non ti sei trovato Con le pistole Fra le ho provate Io In singolo Ho distrutto A parte che mi sono trovato Due disgraziati Che giocavano insieme Con la chat di prossimità In singolo E l'ho fatto tutti e due Con la pistola È abbandonato Lupo Lupo ha abbandonato No io non ho fatto niente Ah mi ha dato error Madonna che gioco Sì non ho fatto niente Ma ha dato lui error Eh Danny non c'è Mesà Danny non c'è È andato via È andato via No eh Ah ero mutato Cazzo Eh buongiorno E non è che non ci trovavo Con le pistoline Però Mi invidi Mi invidi Mi è crashato Mi ha dato errore Mi invidi Mi invidi La vogliamo salutare No No Vabbè È fantastico E poi non si chiama Roberto Al canale su tiktok Ah non si chiama Roberto Ah Ha mentito Dunque per fare la nuke Se giochiamo così Non la faremo mai la nuke No Però mi stai infrangendo Un Un sogno Un Cioè sto rimanendo deluso Tipo come il fatto Di titti Lì che era Col gatto silvestro Che titti In realtà È maschio Come uccello Beh E io ci sono rimasto male No C'era una roba di titti Col gatto silvestro Che ci sono rimasto male Che tipo Ah titti Che è un uccello maschio Stava stromando Mi dissocio Pronto 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 Grazie a tutti. No, no, telecamera. No, no. Mi sta trovinando insomma, sì, l'uccello è maschio, la pasta è femmina. Grazie per la spiegazione, guarda. Non lo sapevo. Ah, vado. Facciamo pubblicità. Signori, San Benedetto su Coso. Chi lo volesse. Pubblicità. Ringrazio la San Benedetto. No, non è vero, sto scherzando, questo l'ho comprato io. San Benedetto, se ci sei, se ci guardi, sto facendo pubblicità, grazie. Può mandarmi altri due o tre pacchi di questi, grazie. Ah. Devo provare con mia madre quando mi chiede qualcosa. Allora, che... No, ecco, che Cristian, signor giudice, mi trovo qui perché... Mi hanno sbattuto fuori. Ti piace su... Ma no, ma si chiama così. È su Coso. No, me ne sono nato io. Ehi, questi lo so che sono a bomba, sono forti. Però so anche una mezza presa per risedere, nel senso che... In realtà, so tutto fumo e niente arrosto. Lo sai che questi so composti dal 60% d'acqua? Quindi non c'è stata frutta dentro. Il 25% è frutta. Quindi in realtà stai bevendo acqua al sapore di frutta. Oh, sono troppo buoni a far mucco. Ci può stare pure la cacca qua. No, nel senso... Oh, di che sta da parlare? Eh, vogliamo farla nucleare, vogliamo fare. Se si svegliano... Se ve svegliate... E facciamo a nucleare, grazie. Dobbiamo giocare come giochiamo. Tocca giocare per farla win con le kill. Anucleare, sì, dobbiamo farla. Buongiorno. Tocca giocare per farla win. Eh. Eh. Poi potevamo fare pure la partita con 6 kill, 6 kill, 6 kill. Arrosto, ma non era succoso. Oh, è succoso. Eccolo. San Benedetto succoso. Alla macedonia. No, gioco col pad, Vincenzo. Io sono fatto al 70% d'acqua. Tu sei fatto e basta. No, gioco col pad. Dai, non portare sfiga, dobbiamo farla nucleare. Luigi, grazie al follo. Benvenuto. Dove andiamo? No, Salvatore? Eh no. Aspetta che stavo digerendo l'acqua del succo. Il porto è il porto, regà. Ma che ha il porto? Lui scende qua. Giusto? Vamos. Eh, è quello il fondo, no? Alla capoccia, lì. Mazza quanti sono. Eh, vabbè, però dillo prima. Uno è già acceso, se hai spezzato le gambe davanti a me, frate. Questo è pazzo. No, non mi ruba la... Eh, sono senza. Tieni, tieni, tieni. Che ci faccio con il Recon? Aspetta, regà, che non c'ho le grafiche giuste, un attimo. Non c'ho le grafiche? Grafiche... Eh, non ho sbagliato. Vedo tipo opaco. Opaco? Vedo tipo opaco o appaghi? Glory! Mi serve una mano, regà. Sto guardando io lì. Guarda all'altro lato. Glory! Guarda questa che è body. Come sta scappando? Lo visco? Unshot. Sperato io. Ho fermato. Oh, dietro, 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 dietro. Oh, c'è Glory dietro? Glory! No! È nato. Wow! Ha fatto Pikachu! Pikachu! No, no, mi dispiace. No, povero Pikachu. Ma come si fa... No, come si facciamo si mantiene la miradritto pad? Ah, 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 ah. Eh, si mantiene, si mantiene. Cioè, tu quando spari devi già mandare giù l'analogico destro un pochettino. Si mantiene. Boh, ma sarà anche una questione d'abitudine. Io gioco da quando ero piccolo col pad, quindi... No, col mouse stasera non so proprio a giocare, ci ho provato un'altra volta. Non faccio manco una kill. Ho fatto zero kill col mouse stasera. Corro sull'auto tedesca. Faccio... Gnaggni. C'è uno top, Lico, Lico. Uno top del barriere. Chi lo so? Chi ha killato questo top? Non mi piace, Diego. Ma dei bossi non... Innaccia tutto, zi. Guarda, non te lo dico neanche. Regà, da me? Eh, vabbè, il più forte del live. Dalla porta, Dani, dalla porta. Dove stai salendo, zi? È sotto. E niente, lui sale sopra. Eccolo, eccolo. Eccolo, stanno tre sotto, regà, tre sotto. Ma sono tre, porca, madonna. Eh, mi ascoltate le call. Eh, non hai detto tre. Io ho detto, stanno... Mi hanno fatto da sotto, dalla porta. Ma sì. E ride lui. Eh, vabbè, non è che ho pensato che erano tre i cazzo. Eh, che cavolo. Ecco, non ti sento. Perché, lupo, sul giocatore del tuo amico sta una cosa a blu. Chi è che c'ha una cosa a blu? Terra, 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 terra. Dove non vedi la cosa a blu? Ma un po' poco. Ma un altro... Ma il pallino? Eh, no, per dire che è amico, probabilmente. Brodi. Guarda questa... Dove vai, dove vai? Sono alzati, sono alzati. Ho fatto uno. Un altro è da me. Oh, ma dove sei? Do sei? Bum. L'ho fatto, l'ho fatto. Oh, si mettono sempre là dietro. Non è il primo che lo fa. Uè, Steven Basilari. Eh, non lo so. Penso un'altra oretta, sicuro ci sono, eh. Chioremo. Eh, un'altra oretta, poi devo andare. Un'altra oretta, l'oretta e mezza. Eh, no, devo andare. L'avete fatti? No. Come si, erano tre? C'è uno là, c'è uno là. Dai. No, mi serve quest'altro zaino, zi. Vabbè, è scemo. Niente, vabbè, sei buggato, niente. Dov'è l'amico Frizz? Uh, è questo? Bella roba che aveva. Chi è scappato? Mi sento un drone, un drone nell'aria. Non è che ce la tagli addosso? Uh, c'è due, via, via. GG. C'era un drone comunque, ed è sopra, in osservatorio. Perché vedo una roba, zi, che cammina nella mappa? Ti vedo tutto strano, Black, con un triangolo strano. Ma anche voi il regalo vedete con un triangolo giallo strano. Quella è la cosa che ti dico quando tu interroghi le persone. No, vabbè, che degrado. Prendi quella taglia, non è restato sotto. Uh, Carlos. Ma hai avuto il regalo tu? L'abbonamento di Antonio? Hai avuto il regalo, l'abbonamento? Vabbè, allora io vado, lupo. Buonanotte. Buonanotte. Ci vediamo alle 17 e 40. C'è gente giù, e gente pure qua, metà verso. Andiamo a fare una V, cazzo. Eh, buongiorno. Ha preso la macchina, quello, lupo. Se abbiamo gente... Non ha preso la macchina. No, 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 è vero, non ha preso la macchina. Ha preso la macchina. Gente qua? Eh, vabbè, vado a prendere anch'io la macchina. No. Ah, l'hai fatto tu, allora. E chi l'ha ricevuto il regalo, quella di Antonio? Nessuno? Nessuno l'ha riscattata. Hai fatto tu la sub. Ma perché non è uscito che ha fatto l'abbonamento? Non c'è, non c'è nelle notifiche. Lo sto guardando, non c'è sta scritto. Vabbè, sta tutto buggato. Vabbè, Carlos. Pezzo di un Carlos delinquente. Bentornato, bentornato. Grazie mille per la sub, per l'abbonamento. Benvenuto. Stasera... Non ne sono sicuro, regà. Forse sì. Però... Vediamo, dipende. Dipende, non lo so, devo parlare con Gattuso perché ha detto che mi ha organizzato una roba, ma non ho capito se me l'ha organizzata per stasera o per domani sera. Nooo! L'altro è sotto, alla porta, alla porta, alla porta... Eh, mo te lo dico. Alla porta era uno, la Pikachu... Cioè, è di nuovo Pikachu. Sotto era uno, la Pikachu è in un'altra casa. Eh, niente, ci dobbiamo restare, dovete fare i soldi per restareci. E vabbè. Aspettate, mo io lo chiedo, eh, io gli mando un messaggio. Gli mando un messaggio, gli chiedo... Io sto qua sopra, mi sono andato a prendere delle armi. Andiamo da un'altra parte. Non andiamo? Eh, no. Andiamo a Sarif Bay. O a Akdar Village. Akdar Village. Allora, dai, dai. Sto arriendo in macchina. Fa subito le armi, comunque, se deve, deve andare a scassinamento, regà, non qua sopra. Diocele, elicottao. Eh. No, vabbè, ho fatto spostare a domani, dai. Mo vediamo stasera... Dove, io? Scusate, che non ci sono... Mi riposo un pochettino, vediamo. Però domani sera ci sono, sicuro, 100-100. E c'è una sorpresa. Ehi. Ed è domani, domani c'è una sorpresa, allora domani sera. Si... Si gioca... Eh, no, me lo posso dire ancora. Ci sono... Vabbè, vi dico solo che domani ci sono due ragazze con me e Gattuso. In live. Domani lupi contro lupi. Allora, pur press, potresti farlo... Minciati, mi devi andare. Buon, vedi la Fiat. La Fiat è questa. Questa è la Fiat. È la concorrente della Fiat. Porti della Gnaglia è live. Sembra la fiera della salsiccia. No, vabbè, sì. Ma anche ieri sera c'era. Tu sei arrivato tardi, sei collegato alle 2. Ma in realtà ti sei perso dalle 10 e mezza a mezzanotte. Stavamo, sì, con una ragazza in live. Con un'altra streamer. Ma domani dovremmo essere con due. Io, Gattuso, e due streamer. Oh. Ma? Ma? Non vedevo più l'acqua io. No, siamo noi che lo chiamiamo Gattuso. No, no, no. Per i modi di fare. No, no. Sarebbe Batman. Sarebbe. Buono, ho trovato il Wabi dentro il buco. Quale è il buco? È il buco. Tiratelo, tiratelo. Io sono andato a luttare qua qualcuno. Eh, niente. Però quanto è figa la visuale dal caschetto. Guarda di stare a guardare un film in azione. In prima persona. Vai a letto. Ah, vai a letto ci deve essere. Adesso vediamo per gli... Per gli sticker vediamo, regà. Vediamo, vediamo. Nel senso che... Sto vedendo se riesco a organizzare tutto. Perché devo far fare le grafiche di tutto in realtà. Le nuove grafiche. Però sto aspettando un attimo delle cose. No, le vado a stalkerare. Ecco qua, Beppe. Beppe, Beppe, ma tu è in età. Beppe. Ma lei non può. Lei è impegnato, signor Beppe. Beppe, mi lasci fare. Buono. Nizzica. No, io non è morto. Nizzica, ma che è successo? Questo qua, ma cosa stava facendo qui? Ah, tu m'hai guardato, Bumbu? Sì, sì. Hai visto una cosa stessa. Palla di dare, poveretto. Dai, non ho ancora perso sta partita. Ma io ho visto che si è bloccato un attimo il gioco. Eh. Cosa c'è bloccato? Cosa c'è bloccato? Eh. Vabbè, ogni tanto te lo ricordo io, Beppe. Ah, parapara, 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 parapam. Mancano 20. Dai, restatemi. Eh, Fausto... Fausto e Joe, segnataveli, segnataveli tutti che... Un giorno, un futuro, li faccio mettere. Ma ci abbiamo il resto adesso. Segnataveli, segnataveli e... Da qualche parte, poi, quando è il momento che vi faccio fare... Una cassa qua, PD. Mannaggia, PD, mannaggia. PDF. No. PDF. ODP. Ficina del Paz. No. Il Pad. Significa un'altra cosa. Oddio, Bo. No! No, oddio, Bo. Oddio, Bo. Oddio, Bo. No, no. Oddio, Bo. Mammo di quando fa... No! Eh, me lo ricordo che avevamo segnati, però Dolce Salato non c'era. Mi ricordo. Dove c'è un po' Salato? Mi sa che si sono persi nel gruppo staffa. Dove lo abbiamo messi? Tra i tanti messaggi, chissà, ma dove sono finiti. Ma cazzo si scende qua giù? Dipende dove. Siamo, ah? C'è lo dico, per colpa dei danni che vuole scendere sempre l'ancio abbiamo armi, non c'abbiamo... Allora, quando andiamo prato a Fagno, che nemmo 27 di fila, siamo scesi lì. Con Mattia al torneo siamo scesi lì. Io... Il gioco sente che a te non piace e ci porta male. No, più che altro che tu... Frate, vi scende a uno scassinamento e c'è i soldi, uovino. Ti ricordi, lupo, come giocavamo? Mi ricordo, mi ricordo. Ti ricordi, ti ricordi. Chi ne pushe? Ti ricordi. Non c'è di tirarmi la roba, no? Non ce l'abbiamo più niente, perché? Ma dove sta mandato così, no, per niente e te? Scendelo d'out, fra. Ma chi ti ha detto che scendelo d'out? E che... C'è basic, c'è, c'è, c'è. C'è basic, c'è, c'è. L'abbiamo... Basta andare sul lento e scrivere uno. Ah, ok, ok, perfetto. Ehm... 50 prima. 30, 18, 18 per 3? 6 per 8? L'hai visto davanti i danni, sì? 6 per 8, 48. No, no, sinistra, sinistra, sinistra. Sì, questo con la casa bianca era. Eh, infatti... Ah, no, no, hanno preso un droppo ancora. 6 per 8, 48? Eccolo. Eh, raga, io sto arrivando, eh. Perché ho fatto il tuffo a palla e mi ha tolto la vita? Lippo 1997. Ma lippo o calippo? Eh, qua gli stonanfremi laggato e morto, sto stronzo. L'hanno preso? L'hanno preso? Ua, faccio qua. Ma raga, siete di meno, eh? Non ci sono io. Era un terzo. Tira a tutti, a terra a tutti, a terra a tutti, mi sa. Tiro granata, sperando che sia arrivata da voi. Oh, l'ho fatto io, l'ho confermato. No, la direi da sinistra, mia, sinistra, mia, sinistra, mia, l'ultimo. Bro, non si possono arrestare tutti ogni cazzo di fight. C'è il grappolo, zi, non lo riesco a confermare se stava arrestando un'altra volta dopo l'ho messa a terra. Non ci credo. Ancora. Ancora sto grappolo de merda. Siamo, abbiamo perso. Oh, Nico, l'abbiamo a terra tutti e quattro. Come cazzo? Fanno arrestarci. Tutti, che palle, oh. Cioè, questo l'ho pusciato subito. Tutti e quattro li abbiamo fatti. Tutti e quattro li abbiamo atterrati, bro. Tutti e quattro li abbiamo atterrati. Sì, però era rimasto l'ultimo fra che io con l'altro l'ho confermato. Tutti nel gulag stanno fra. Era rimasto questo qua e basta. Cioè, io sono morto per atterra l'ultimo giù e c'era sto stronzo. No, non è possibile. Ah, regà, qua dovete calcolare che gli autoress non sono più uno. Vale, se ne possono mettere anche dentro, dentro lo zaino, tre. Ah, no, ma il tempo proprio, cioè, non si sente quando sei elfa. Eh, no, è quello che li devi confermare e basta, Fra, non puoi aspettare. No, ma noi ce ne avevamo quattro sul drop, dopo quattro davanti a un metro. Ne avevate tre sopra e uno sotto. Dovevate confermare a quelli che facevate sopra. Cioè, non mi dovevate buttare. No, abbiamo fatto più di questo, non penso che potevamo fare. E invece sì, se mi aspettavate, avevate chilate quelle sopra, dovevate temporeggiare. Stavo arrivando io da dietro. È comunque assurda sta cosa. Veramente assurda. Vabbè. Vabbè, sei di proprio uno zucchino, sei, guarda. Da quell'altro, guarda che vava. Si alza, va a urlare nell'altra stanza, poi torna. Dovevo. Vabbè, vabbè. Vabbè. che palle sto gioco comunque veramente troppi autoressa roba ora va papà e dagli la prima win l'avevo fatta ma chi ma dove io l'avevo fatta a singolo avevo fatta era fatto contrattivo se no devo fare tipo 44 vittoria singolo quella qui la quinta la famo la famo insieme e poi andiamo e proviamo stasera sa che mi devo ubriagare questa sera mi so come è arrivato un full team comunque hai fatto con la pistola questo qua ciro di marzio fatto da me manca l'ultimo ben ce l'abbiamo fatti treno tuttoria erano scesi due qua da me no ma uno l'ho fatto giorgio che giorgio di marzo non ti facciamo niente bibro città di ragazzare porco due ha detto di te cazzate detto di te cazzate porco due o io non gli ho detto niente cioè nel senso sei tu che hai detto non ti facciamo niente io puoi sempre puoi sempre entrare nella squadra nemica comunque no 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 solamente se siamo in tre e ci manca al quarto no in terzetti però no i quartetti puoi farlo l'abbiamo provato però devi essere di meno se siamo in tre ci manca al quarto e invidi puoi fare richiesta a qualcuno di farelo entrare si e fa il quartetto ma io a me mi è uscito un altro tizio qua sotto regano non so cioè voi non avete capito un cazzo non ho dovuto kill a un altro quale sparano davanti a me vado rondo fidati fidati tu no è stato bellissimo quello ci ha creduto facciamo niente non ti facciamo niente ci ha creduto poveretto si è l'infame però io ho trovato di faccia l'ho ammazzato giustamente e io non è colpa mia ma puoi mai credere però facciamo fuori facciamo fuori tutto il tuo team no rimani da solo secondo te ti lasciamo vivere è pure tu che ci credi però i pugni nelle mani bro e se in bolletto sei era una presa quella che almeno non gli ho fatto è già mi era il cecchino però penso a terra quello fatto fatto quello non ho fatto un cecchino quello dell'atterrata vista che ti mani andato sì non è team io ho fatto un altro visto è perché c'era un tizio qua fra voi partire questa è mo prendo un'auto arrivo a sa quello che è restato io leggero non capisco come farà gente c'è buccia cura 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 piatto dai lupo sei lontano da noi ma sa quello è una porta decima no ma c'è un altro team qua frate benvenita voi so guarda la mano c'è chinato sono morto ma dove cazzo si è andata un pizza boom in chi è arrivato un altro team fra mentre arrivavo da voi ma hanno sciottato è arrivato un altro team lì da voi alla chi state che ha scritto è come ascolto minchia un messaggio di 80 abbiamo ascoltato poco dai però porco dio no 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 eh ma uno l'avevo messo one shot io ma non so chi dei due forse proprio questo no quell'altro che hai ucciso tu forse se l'hai fatto con pochi colpi l'avevo messo io quasi one shot arrivato no ma non sono io che ci posso fare niente io glielo dico di non fare gli parte ogni tanto io non non è difficile mi sarà capitato una due volte ma non lo faccio non mi piace muoio di mi incazzo ma con me stesso ma senza niente ha detto lo porto io tu 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 c'è gente eh ma come eh però che ho fatto capire che se pusha c'è una cazza rossa sotto fra Dani cazza rossa a sinistra no mi hai fatto spaventare oh c'è uno ma secondo me pure quello è sceso per prendere la cosa madonna devo risettare la grafica tutta adesso comunque vediamo dai tiro a v dove è andato uno in fondo ma sta arrivando in volo questo no perché me lo pinga in volo il resto Dani eh vado ah no è a terra è a terra ora no no ma se continuano non ci gioco più ve lo dico dovete smetterla di bestemmiare quando state con me se no mi rompo il cazzo non gioco più con voi ve lo dico team non team non me ne frega un cazzo coppa cabana oppure ve comprate il bip come ce l'ho io e bippate mi sono arrivati già laggiù incredibile eh non si possono busciare ah no se sono busciati con altra gente assurdo non c'ho un'idea ora lo faccio spaventare dove c'è le gente eh eh lui l'ha busciato però così la nusca non la faremo mai fattenere ma fatti tanto c'ho ah si è già restato l'altro non era più a terra che palle aspetta dammi i soldi Dani via dietro via dietro arrivo eh si si era restato glielo dovevo confermà come l'uomo ah mi confermo mi confermo tanto è impossibile che arrivate qua guarda ma di quanto me ti metti più altra ora mi ha busciato la taglia ma come hai fatto a restarmi che mo' mi ero confermato eh si va busciare la luce lo fa subito ah vabbè aspetta c'è però eh ah non so tutti sono due mister potato mi hanno sparato mi hanno sparato dal dalla nave lì che cos'è là ho due in acqua in acqua in acqua busciano oh sono quattro sono quattro dalla nave dal gommone quello lì corazzato io sto sempre senza una secondaria eh il pompa no questo fa schifo che hai piazzato sulla sul muro oh si resta come no uno fatto eh oh dove visto visto sul tetto sul tetto resta scale si no infatti non arriva da sopra mi sa che arriva da qua sotto da qua da qua se lo piastre ragazzi si le mina 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 ti è piastre ma la minera me la dava che era nostra come ha fatto ad esplodere l'ha cambiata l'ha convertita ah l'ha convertita si si vabbè ero sotto mi ha preso anche a me mi ha presa a me vabbè 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 ah è sopra è sopra è sopra è sopra si si è so è so è so fatto 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 come si apre ah qua non si può aprire solo qua si può andare no rega venite qua ho fatto una cazzata che è successo? ho sbagliato ho comprato due rpk bello grazie per le rpk buono gg gg a te bella eric buongiorno buongiorno sono qua buongiorno a te caro avvivo 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 preso 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 io preso io lasciamo i soldi non c'ho colpi 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 colpi assalto ti posso lasciar ma che no no tutti te lo lasciati ce l'ho zero io no ce l'hai 5000 me ne dà me quale 0? dici che hai 5000 ce l'ho altri ti riesco a lasciarmi l'altro è per mix è retriti no c'è un altro 1 qua ehi fino a 0 0 0 c'è un altro uav qui ragazzi ah ma non c'ho c'ho due uav buono avvivo nemico in volo avvivo nemico è finita uh ma faccio un biscotto kebab arrivo ah dicevo no forse stasera no steven però non sono sicurissimo dipende dipende se ci sono i miei amici esco un po' con loro altrimenti mi sa che sto a casa e vengo live però non sono sicuro non lo so ancora domani sera sicuramente si ci sono attacco aereo leato in zona noo mannaggia discord fra eh la fennec mio dio quanto è forte quanto è forte non c'ho le mie armi no fa schifo questa cast fa schifo mi ha fatto morire mi ha appena fatto morire c'è gente di fronte eh tipo qua era mi sta un carrello oh mi hanno pushato l'ho bombardati pure io erano tutti e tre io erano un altro dietro qua aspetta 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 è scoparra di nome scoparra fra pezzo di un dj king bot 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 bagliaccio bagliaccio io non posso venire buono buono peccato c'era l'rpk lì di danni che c'avevo a l'ultimo in torri a a terra nooo colpo 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 uno che viene qua uno che viene qua uno che viene qua guardami 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 sta pushando su di lui sta pushando su di lui dj no to ma questa è la cast of non è mitraglietta e fa schifo come la vicenda male fra si è stata male anche un paura regata però una ho fatto morire pure a me prima da da andate verso il carrello restate vi sono tornata vedeva io pranzato lui dai ho pranzato si rega il forte del ralla secondo me c'è il pk col mirino e la vai dai 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 rau frai non puoi capire il tasto è così è molto più forte no, non lo fa comprare vediamo un altro shop si, se vi serve questo fammi vedere questo che roba viva pronto? pronto? ah se noi giochiamo de capoccia la vinceremo ho trovato la saccoccia, buono ma arrivo, le sto salutando fammi vedere la custom si vede con la custom che non è male e c'ho la custom e la pazza nef devo fare una bella camminatina una power villa e una mon safe rifornimento, dove era il loadout, regà? di qua, che qua, si non lo so, bro mi hanno sparato comunque qua dove sto io non riesco a uscire mi sa che mi pushano vai mi hanno appena agganciato, regà mi hanno appena sparato stanno venendo da qua, da fuori safe c'è il loadout? si arrivo regà mi stanno pushando pure da dietro è indonnata guarda qua che schifo di auto io lascio un RPK io pure dove era? non è restato qua davanti e dai andiamo da qui è arrivato, è arrivato in volo tu 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 sali 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 let's go bro oh salimmo con la corda qua qua c'è una corda corda qua, corda qua ma dove la vedi sta corda? qua la sai solo tu sta corda davanti a me 3, 2, 1 3, 2, 1 che palle dai da me per favorti ste cazzo di pistoline del cazzo no no e c'è un altro camperato qua però vabbè dai ma non ci sentono i passi è stato spero un attimo ma questo è le mie dai non tengo là le mie no ok ah mi potete restare di nuovo mi potete restare di nuovo quella è l'esca è l'esca è l'esca si che è l'esca io devo sparare ci sono pure i bot no ci sono i bot che si sparano c'è la rocca forte eh qualcuno che sarà pure arriva la safe raga dai veloce 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 sono morto qua io zì non speriamo che riesca a pia la roba c'è una proposta per catturo aspetta non l'ho letto lì da mo dopo lo leggo no no non riesco a pia la roba mia ma va va non riesco andiamo andiamo che pazienza sta partita mi taglio adesso ora oh sti bot sto con la pistola io ok no comunque c'è qualcuno vicino ai bot che si spara si ne ho appena craccato uno che non è bot messo a terra cazzo il gas il gas no no oddio mio era pieno di roba il tizio lì non sono riuscito a prendere un'arma per colpa del gas un'altra volta è morta uno eh l'avevo messa a terra raga uavv bombardamento sta roba dobbiamo prendere una uavv se riuscimo io ne ho killato uno fuori safe regà era pieno di roba mannaccia vai la torre la torre torre la torre è quasi oddio poi c'è una clamor però andò vogliamo che a tu sono il gruppo si sacrifica per il ban permanente sia Matteo che Capoccione no vabbè in che gruppo quello di Telegram quella volta non risponde neanche a noi mentre là cioè non è che non risponde neanche a noi però sta pieno di messaggi robe cose da fare era un bomb da fuori da fuori mi hanno massacrato almeno tre non vissi lì quattro no però tre sì ma che so ste clamor messe in giro qualcuno ha una piastra hai da una piastrella ah uh grazie qua sopra uno sopra torre ce l'hai guavvi riuscire a fallo guavvi riuscire a fallo non c'è soldi se gliela fai se gliela fai se no schiazi no che RPK aveva questo fa schifo la torre ma si dovrebbe buttare no boh no chi l'ha settato chi l'ha settato stai andando bene dai per uscita una finestra sei un cretino gente a sinistra mia gente a sinistra mia si minchia no c'è pieno c'è pieno c'è pieno minchia ma c'ho ah c'ho quelli dell'elicottero wow no pure da fuori ok è potuto si l'aprissi raga c'è un bombi c'è un bombi eh dovresti buttare io eh ma c'abbiamo sia a destra che a sinistra raga l'upe sia a destra che a sinistra pure qua pure qua qua sotto pure li abbiamo madonna siamo proprio nel mezzo ma direi un bomb e vai a destra no adesso no tira un bomba si tira un bomba andati a destra eh qua a destra abbiamo pure gente non aspetta ci sono tirati ci sono tirati quelli a destra madonna come smira andiamo sinistra ci sono tirati pure quelli a sinistra ho visto ci avete colpi colpi e salto raga forse si quando te ne servono eh però sto in mezzo sto in mezzo le rocce aspetta 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 mondo li posso da fra c'ho il gas dietro buco meglio che volate che gli andate così no 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 vola è peggio dopo non ti apre il paracadute gli atti a sinistra black cazzo no 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 arrivando come ha fatto a non mori questo fra bravi te ne vediamo sopra cazzo ecco dai però buttamose su cioè insieme rega cazzo dai andiamo insieme o morimo tutti insieme o non mori nessuno te riesco perché non mi hanno seguitito sti balordi ma non te puoi buttare sopra così fra ma come no io eravo ne avevamo due papura a me mi stavano a sparare fra mentre scendevo quelli di sinistra infatti devi lanciare fra no no l'hai visto a sinistra lupo no non l'ho visto là dentro era ah esatto eh zio e tanto mentre push non ce la fanno da là però mi sa che arrivano a pushare basta non possiamo girare da nessuna cazza no non puoi fare niente non c'è manco più le piastre io tieni 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 e dobbiamo girare a destra per forza perché mi ha tolto una piastra aspetta 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 e infatti ma non si può girare è la rottura di palle però no 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 collate alve fanno dietro ce l'avete la cosa non piccare non piccare a me fa che uno di quelli ti vede oh no chi è stato oddio oddio ma stantanei dentro stantanei dentro eh sono arrivati dal mare si ok arriviamo da destra madonna eh io cambierei arma gli emirerei col coso come arrivano ma nessuno che gli spara no vince buona 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 uno dopo ce l'hai uno di due peccato proprio nel momento in cui ho confermato a quello mi sono usciti quelli dall'acqua di là da destra devi guarda destra devi guarda destra che te escono da destra eccolo e la maschera piazzate piazzate vai 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 destra ce l'hai eccolo l'hai visto l'hai visto dietro muro si si l'ho appena lo so no ah peccato io non li lancia flashbang li devi lanciare li lanciare flashbang è la roba li devi lanciare peccato vabbè allora mi sembra di lupo consiglieresti il contro freak per gli analogici ho visto che li usi cambia di tanto si però uno solo cioè nel senso solo sulla mira consiglio ma sconsiglia lo stesso tempo cioè nel senso che quando li metti all'inizio non ti trovi perché ti cambia anche la sensibilità diventa più più sensibile analogico perché ovviamente lo fai più alto quindi appena lo tocchi è come se girasse più veloce tra virgolette e diventa più preciso ma diventa più preciso perché inizia ad essere più sensibile al tocco quindi in realtà si e no cioè nel senso potresti anche non trovarti io non ci so giocare più senza se non è così alto analogico non ci so più giocare però perché proprio ti cambia la sensibilità però non lo so cioè è una cosa personale secondo me conosco gente che non li usa è comunque fortissima a sparare io sinceramente mi trovo adesso meglio a usarlo e non saprei dirti cioè va provato devi provare io il primo giorno non mi trovavo poi dal secondo giorno mi sono trovato bene è personale come quelli che per esempio come me che uso i tasti sotto capito e adesso io mi trovo a giocare coi tastini sotto ma ci sono quelli che comunque giocano anche senza tasti sotto cioè usano la presa a granchio che giocano praticamente col capito a schiacciare i tasti così sopra è personale la cosa io alla fine dopo uno due giorni mi sono abituato e mi sono trovato un pochettino meglio perché in questo modo sono riuscito ad alzare anche la sensibilità dell'analogico che gioco più alto a livello di sensibilità e me trovo bene però ci è voluto un po' ecco perché all'inizio ti trovi scomodo perché l'analogico è molto più alto ah io devo sentire una roba aspettate aspettate che Grazie a tutti. Eccomi. No, no, Raff. Bisogna farne cinque vittorie di fila. Calcola che ogni partita dura almeno, se fa la vittoria, 25 minuti. Ma ancora non abbiamo fatto la vittoria. Mo siamo arrivati al secondo posto. Ancora non l'abbiamo fatto. Eh. Doveva succedere quel giorno là, quando eravamo a quattro di fila, abbiamo fatto la cazzata di perdere la quinta. Eh, che bocca. Vabbè, prima o poi arriverà, che cavolo. Ma poi la facciamo. Aù? Sì. Calcolando che io tra poco devo pure andare, non riusciamo a farla adesso. Dovamo farla... Dovamo almeno stare già... A tre vittorie. Io devo pure andare tra poco. Pronto? Pronto, ci siamo? Pronto. Perché c'è il mal di schiena? Eh, per il covid però. Ma come stai? Quando è passato? No, ancora non ho amicinato. Devo fare un altro tampone. Per provare, però... La dottoressa ha annunciato lunedì. Eh, fallo lunedì. Che che sta parlando? Da lì ci sei. Ma chi è U? Eh sì, eh. Ci sei? Eh sì, eh. Dai, dai, dai. Ma chi è che ha fingato là? Gesù. Io, io. Come mai niente osservatorio? Eh, così Nico è contento. Grazie. Siamo contenti con lui, intanto. Ma c'è uno, porca puttana. Ma come scappano tutte le bici? Oh, no. La fa un cubo. E vatta fuo culo, agg. Oh, mi devi dire tutto coso, mi devi dire, capito? Scraziata, delinquente. Fammi, fammi, dove sta la tua squadra? Ah, ma non c'era la sua squadra. Ma lo sai che se lo uccidi non te li pinga? Non l'ho ucciso, l'ho interrogato. No, dopo che lo interroghi, tipo. Boh, non lo so, Fra, ma... Non te li... Non te lo pinga. E salì mi ha fatto cose. No, Fra, ma mi sa che non c'erano quelli del suo team. Cioè, io ne ho fatti due. Lui è un altro, mi sa che erano in due. No, uno l'ho fatto... L'hanno fatto uno. Allora, niente, era finito il team. Probabilmente aveva trovato l'autoress, Fra. Mo' che cazzo che piamo qua? Qua dobbiamo sali sopra? Ma la faccio un biscotto, che babba. Cucu, cucu, puru, 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 puru. I colpi so fighi, però, porco, due, non te vanno capi il cazzo. Quando sparia la gente. Oh, scende uno. Eh, mica solo uno, guarda la quanti di nappingati. Guarda pure dietro. Vara Mario. Vai Mario. Bella, bella, vabbè, ci aggiorniamo sul gruppo. Non lo so se stasera ci sono, dipende dai miei amici. Se non ci stanno manco loro, penso che sto... Sì, ci sono. Ehm... Mo' vediamo. Un po' mi vorrei riposare, sinceramente, però. De fatto, uh, c'è un altro sulle scale. Hanno chillato qui a posto. Che poi domani sera sicuramente abbiamo... La serata organizzata che c'è sta io, Gattuso, e le due lupacchiotte. Quindi domani sera sicuro... Ci sono. Bella, bella, Gio, dai. Ci sentiamo sul gruppo. Allora, Michele, ciao Michele, buon pomeriggio. Ciao, la cassa. Facciamo la cassa. Ma non abbiamo fatti tutti questo osservatorio? No, altri giù, giù, giù. Dove eravamo prima? Come sono tornati? No, era un altro team. Era un altro team. Ah, boh. Uh, pistola però, la pistola è buona. E quindi che famo? Io so di cambiare i text. Potevamo prendere WAB comunque. Vero. Chi è rimasto indietro? Dani. Potrebbe prendere Dani. Ma Dani si è fermato. Oh, stavo a rimettere un attimo la grafica. Dai, 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 dai. Vuoi fare WAB? Ah, sì. C'è pure un bombo. Vai WAB, vai WAB. Ma fammolo lì, do state voi, no? No, dice che c'è un team. C'è la gente, c'è la gente. Eh, da me hanno arrestato. Gigi. Io, dai, non c'è male. Che si dice? Che si dice? A me non male, dai. Tutto, tutto regolare. Ah, mi sta venendo un po'... Ha killato qualcuno, lui? Eh, sì, c'è gente qui. Ah. Eh, stavo a dire... Ma dopo, ho mangiato a mo' da poco in live. Mi sta venendo, sai, quella, ci vorrebbe un caffè con l'abbattimento dopo pranzo. S'ho fatto... Se ne sono nati. Io devo mangiare, devo mangiare di meno, devo mangiare. Sennò mi viene l'abbattimento poi. Oh, un full team di qua, regà. Eh, pure a noi. Vabbè, prendiamo la macchina o andiamo da Dani, andiamo da Dani. Andiamo da Dani. Qua, qua, questa è un tono. No, no. Ma cazzo, a scuola, a scuola, che pittorio, di tanto. Stiamo arrivando. E mo' dove sono andati? Atterra, buono. Ok, vede, l'abbiamo fatti tutti, è posto. Ah, questo... Sì, ma non c'avevano le armi. No, ma non c'avevano le armi. Andiamo giù? No, giù no. Se andiamo verso di qua, abbiamo una taglia. C'è una pistola rianimante, prendetela. Prenda? Prendetela, regà. Io ce l'ho, io ce l'ho già. Io ce l'ho già una e c'ho l'autoresso pure. Eeeh... Bu, 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 bu. Taglia laggiù 400 metri. Beh, mi devo buttare in volo. E mi è gialli. Oltre all'autoresso, pure la pistola rianimante c'è sta, regà. Eh sì, quella è top. Ma da solo e poi rianima pure le persone. Eh, sì, sì. Cazzo, sì. E quella è ottima, perché se stai in un fight non puoi restare. Gli spari la pistola all'amico e lo resta. Sì, c'è gente sinistra a bombo. Ma venite da noi. Andiamo da loro, andiamo da loro, andiamo da loro. Ma dove? Abbiamo una taglia qua. Uè, capo ciò, bentornato. Dai, dai, la taglia, la taglia. Ancora. C'ha ragione. Ah, io sono a affallo. No, va dietro pure, puttana. Vai, lupo. Ah, vuoi fare fai freddo. Questa non avevi soldi. No, no, ce l'avevo, sono andato a comprarlo. Tiraglielo, va, che non lo fa in motino. Vai. Tira, tira. Muoviti, muoviti, muoviti. Una terra, finito. Panda. Kufu, panda. Bombardamento di precisione. C'è un po' di... Ma hai fatto? C'è un po' di... 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 Eh, vabbè, te li troppavo io. Eh, no. Eh, mica. Che mica te finiti. Ho fatto un altro... Finito. Dov'è l'altro? Un altro, finito. Vabbè, fine. Ma dov'è l'altro? Ehi, quanti colpi dell'assalto c'ho? E' pieno di colpi d'assalto. O c'è stata la partita in cui non ne ho neanche uno, o la partita in cui sono... Dove li avevi uccisi? Eh, qua, qua. Dove sta il tetto? Dove siamo qua? Ah, ma sopra, quindi. Sì, sì. Lui c'è le armi dei nemici, le bigliette. Buono. Eh, a me se vedebbe una mitraglietta buona dei nemici. Pure a me. Non so se ce l'hanno. Non credo. Cioè, ce n'è una qua a terra, non me la fa prendere. Rega, tagliate, tagliate. Tagliate. Aspetta, dai. Oddio, questa non sembra malaccia. Hanno restato lì dietro, pure. Oh, da dietro, da dietro. Mi sparano, infatti. Dove? Dai. È arrivato pure il game mio, che scammo, eh. Eh, dai, che pa. Che fino lì? Vediamo. Eh, insomma, non è che ha risolto tantissimo l'aggiornamento, eh. Anzi, è ancora da errori che butta fuori a volte dalla partita, a volte che lascia il gioco. Non hanno ancora sistemato tutto, a volte ci sono ancora un po' di bug da sistemare, un po' di robe. È lunga la cosa, non hanno ancora messo le statistiche delle vittorie e delle robe, e ce n'è di roba da fare. Devono sistemare ancora per bene. Diciamo che alla fine si riesce a giocare, però succedono un po' di problemi in partita, a volte. Ah. Pronto? Spero che lo risolvano il prima possibile. Perché poi, dai, è carino. Come Warzone. Magari sistemano, diventerebbe un gioco molto più bello. Fatto. Eh, era ancora là. Arrivando il gas, comunque. Vabbè, mi t'ho fatta una nudata, mi t'ho fatta. Una doccia. Una doccitta. C'è il sapone, lupo? No, c'ho la... Lo stai che dè. Posso fare un'armettina? C'ho una saponetta, la vuoi? Eh. Sai dove... No. Passa mappia, passa mappia la saponetta. No. Dai. No, però ti devi mettere la saponetta nelle... No. Cato, Webby. Dai, ma ti sei lavato sotto acqua, che vuoi? Vattene via. Adesso, fammi comprare una cosa. Fammi... Dammi poi... Eh, devo comprare pure io, devo comprare. Perché non c'ho il fennec, ho fatto i vissuti. Eh, devo comprare anch'io l'arma. Le vuoi comprare il fennec a me? Ah... No, vabbè, mi tengo i soldi, dai. Ti, comprami il fennec. Comprami il fennec. E come te lo compro? Non c'ho il fennec. Che palle. Ti, ti, ah, compra la roba. Ti, comprami il fennec. Vai, 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 vai. Vi serve pure a voi o no? No. Era no. E per le doppie pistole se ce l'hai. Eh no, non ce l'ho. Eh, vabbè, ah. Che fai, ah? Oh. Vabbè. Assurdo. A me piace l'autodessi. Self, self. Oggi sono andavanti nel gioco. No, oggi... Almeno i server non stanno dando problemi per il momento, eh. Sì, ce l'avevo io. È giocabile, tra virgolette. È tutto molto bello. Avete fatto hub? Vai, la via e mannala. Oh, che è successo? Vai, la via e mannala. Oh, da questi qua? Wee, 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 wee. Crispa? Wee. E' palo scioppa? Sono due, sono due. Chi era quello? E' qua pure ce l'abbiamo. Oh, ma tu sciviti bot qua da me, che cazzo. Inchia. Non sono andati quelli che pingavano qua. No, no, dietro le piante qua. Dietro le piante, dietro le piante, dietro le piante. Non mi fado confermare. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma quello là che era scappato, si è ucciso. Ho fatto, ho fatto, ho fatto, ho fatto. L'ha fatto, ma... Ma confermato. Wow, 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 wow. Oh, io ci vogliono tre ore per sparare uno a terra e confermarlo. Questo mi ha confermato in un attimo. Vabbè. È vero, sì. Ma. C'era un botto di gente qua. Infatti l'ho visto. C'ho una chiave della fortezza. Eh, tanti auguri. No, ma è un macello. Ah, no, spessito, segreto o fortezza? Eh, già, quello già mi mira, rega, quello già mi mira, quello già mi mira, come è possibile? Se è girato, ho già messo a mirare, ho tirato qua, ho avviso, è girato ma a mirare. Dai, fammi giocare. Tutti e quattro. Sì, sì, ti stanno venendo per solità, sono venendo tutti. No, non è vero. Minchia. Non mi fa giocare al gulag. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Andiamo, andiamo da lui. Eh, porca troia. Eh, ci fanno pure a noi, eh. No, a me mi spiega, com'è possibile che se ci sto girati così? No, vabbè. O fa il gulag. Guarda da tutt'altra parte. Il gulag all'ultimo secondo, prima che scadeva, sto giocando. No, 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 bambù. Da tutt'altra parte, se la guarda, ho fatto un passo. Ho messo gli aiuti e quattro qui, c'è chiamato. Oh, ne ho anche. Stalo, dai, c'è inutile andare a me. No. Dai. Come avevo perso? Ma dato che era proprio... No, ci siamo. Che fanno? Rossiamo? Dobbiamo fare un... Sì. Eh, forza, Dio. Muè, muè, sembra anche... Ah, io sono stanco. Dov'ho riposato un attimo. No, ancora non l'abbiamo fatta. No, io ho fatto una win io in singolo e basta. Poi, a quartetti non l'abbiamo fatta. L'ho fatta io in singolo. Eh, che ora si è fatta? 3.45. Io mi sa che vado a riposare un po', che inizio ad essere stanco. Ah, sono tre ore che c'ho. Mi riposo un po' anche perché secondo me stasera... C'è il 90% di possibilità che ci sono di nuovo, eh. C'è il 90% di potenza. Ok, 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 ok. Uno lo vedo. Mi fa vedere il pink, figurati. Dio, santo Dio. Sì, l'ho visto un altro. Sul lato, sul ponte. No, 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 mi ha girato. Ecco qua, ecco qua. Beh, dove? Da nord, da nord, da nord. Qual è nord? Niente. Non potevo pingare, non a terra. Dalla tua sinistra, che a meno. Da diritto così, black, destra? Ok. Sì, l'ho visto. È un gecchino, eh, occhio. È un gecchino, niente, ecco quello. Ma che sta accendola? Si stanno ammazzando. Ma dove? Riposare un po'. È il 10% che fa paura? È il 10%? No, dipende. Ah, ma mi sa che stasera non c'è nessuno. Mi ha avuto l'abbaccio, però. Eh, mi devo riposare un attimino. C'avete un rest qua davanti? Ma non lo so. Come? Come fare? Bella situata, eh. Black. È un tuono, merda. Ah, c'è gente qui. C'è gente pure qui. Io dove ho dato, dove cazzo sta? Ma questo da dove è arrivato? Un zapper fire. Vieni qua su lui, vieni qua su lui, c'è il loot. Vieni qua su lui. C'è uno davanti. Sulla casa sua vieni proprio. Sulla casa sua? Sì. Sulla casa mia. L'ora era qua? Sì. Ma cazzo si sale, no? No, sotto, sotto. Era sotto. Sì, sì, sì. Mamma mia, cecchino. Non posso. Cioè abbiamo... Un cecchino verso di là, eh. Lo so, lo so. Ah, sì. No, 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 no. Allora, lui, il shop mi sta stando. Sì. Sì, 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 sotto là, sotto il ponte pure. Buono. Dai, ma non mi vado. No. Ma hai tirato un bomb in testa, erano i trelli. Cioè, uno so, top, 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 top. Top da me. È normale. Ma perché se la gente non si sente, regà? Perché se la gente non si sente, da me? Sono sotto è sceso. Eh, questo non si è sceso come una merda. Minga, ha fatto il doppel jump. Come cazzo è possibile? Pure che quelli a te, quelli sulla torre, manca... Cioè... Ah, ma sono due ce n'erano, uno, Black. Ah, due erano, manco uno. Ah, sì, sì. Non si è sentito un passo. Ma comunque non si sente i passi. Madonna. Quelli, quelli là, bu, lo so saliti e non si è sentito niente. Vai, i tapolti. Bravo, Black. Buono. Salve è a salve. No, comunque non ha senso quella cosa. Sono saliti i due sopra la casa, ma non ci sono sentiti i passi, niente. Non lo sistemano ancora, sta roba. Ma come fai? Come fai a giocare così? Cioè, te salgono due sopra e tu sei impegnato a sparare davanti, ma vuoi senti i passi? Vabbè. GG, GG Activision. Bella Fausto, buon pomeriggio Roberto. Mi sa che mi faccio un singolo dopo di questa. Vado a farmi un singolo perché... E poi prima di andare... Il signor Scianna. Scianna Bianca. Ciao, signor Scianna. Bella Fausto. Vediamo stasera se mi fanno sapere i miei amici, se fanno qualcosa. Sennò mi sa che ci sono. Io vado a vedere se c'è il caffè, ragà. Aspettate. Oh, 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 oh. Vabbè, questo sapeva sempre ed esclusivamente dove ero. Lui lo sapeva. Lo sapeva che ero. Buon sì. Posso lo sti, posso, squitta? Niente, ognuno che non riuscimo a vincere. Eccomi qua. Eccomi qua. È rimasto un po' di caffè. Eccomi. E vabbè, e vabbè. Parapà, paraparaparapà, siete quattro, quattro bot. No. Siamo... Cioè, se pure te vuol dire. Eh, eh, eh. Eh, no, eh, questo non lo so. Non mi ricordo. No, è partito. Capito? E suonete. Fit Mufasa, bro. Mufasa, eh. Ma, sta canzone era diventato un ritornello in estate. Quello che ballava dentro la macchina. Cioè, fuori dalla macchina. Che grande, che generale, Adam. Underworld di Tuomo. Ma che è diventato commerciale, Tugiamo? Ma no. Tutur. Carina, Underworld. Papaparaparapam. Eh, vabbò, carina questa qua. Tugiamo commerciale. What? Vabbè, facciamo un'altra così. Io poi qualche signo mi voglio fa... Questa me la salvo. Eh, che carina. Mh, pa-pa-pa. Pum, pu-pu-pu. Pum, pu-purum. Papaparaparapapapapa... Pamparam. Pah! Ogni tanto scopro musica nuova, zi. Paparam. Mh, papaparam. di musica il live no nessuno nessun tipo di musica messo proprio no vabbè tranne qualcuno magari qualche musica di qualche sconosciuto che ne so capito magari qualche sconosciuto che non è cover ma di tizi sconosciuti zi non di gente che magari già le cose segnate col copyright e tutto non posso mettere neanche le mie fra le mie personali me le segnala è proprio un cosa ti rendi conto le mie personali non le posso mettere infatti io ho fatto scrivere dall'agenzia quelli di facebook e mi hanno detto che comunicavano se trovavano un modo per far mettere almeno le mie passero il modo e non ha senso le mie le mie che non dico che le altre ma riaccende oh no no ricarica dove siete da lì è uno che scende e arriva dalle scalette uno che sale uno che sale ma quello c'aveva l'arma il tizio non lo so fra ma tirata a terra no io ho visto che mi ha sparato ma io non c'è un bomba ma io non c'ho ma io non c'ho ma io non c'ho crackato dietro l'auto con la pistola guarda la pistola fa male è dietro l'auto qua qua che sta succedendo no c'è anche sul tetto si arriva 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 e che devi arrivare ho finito dentro 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 dove puoi andare via black devi sali sopra bombo non sta a basso eh lui sta a basso è salito sopra eh vabbò eh porca puttana porca puttana però eh ok dopo questa faccio i singoli rega faccio un po' di singoli e poi me ne vado che è successo che si sono bloccati qua in mezzo pochino gioco al gulag oh sbagliato è lì comunque è stato lì dietro oh sbagliato è lì dietro sto facendo più black io ragazzi ho usato black buh ho mutato black mi senti? ok siamo bei... beh abbastanza vicini dai faccio lo cavolo eh a me mi ha fatto nasce qua eh ma che ci sta qua la taglia da fare e basta? se no ci sta lo scassinamento ma vicino alla folla alla roccaforte oh elicottero due elicotteri sopra di me oh my god wow 100 dollari dentro che schifo uh ho trovato wav paradise don't see why butto il wav che non si può mai sapere ah e ci sono solo loro proprio la taglia lì in mezzo sono un full team da 4 bello oh na 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 oh na 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 there's a thousand times with you and I come è che si faceva quella cosa subito ad alzarsi così? eh ma a me non lo fa bene perché c'ho l'analogico rotto hanno sull'altro tetto quello grande mi sa it'll be time to come around tu tu ma l'è questa? ce l'ho salvata? si ah quella di tre biscotti mmm goloso no però il mirino è bruttissimo stavano sotto comunque non stanno sul tetto ve no 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 cheat bum 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 tutti a terra sta a morire il pelè eh? sta a morire il pelè si si chi? pelè perché? pelè 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 è perché sta tipo di ospedale fin di vita ma che cazzo dico che gli è successo? eh boh ma vecchiai come vecchiai? quanti anni ha mo? eh che non è un 85 cazzo si è così vecchio già è diventato ah ma già problemi eh oh giocava 50 anni fa minchia e mai pensavo di avere una settantina d'anni ci diamo? eh buttamo contro 4 hanno restato zi che è successo? ah eccolo dov'è? atto eh mo l'altri della taglia deve essere arrivano a destra dove? ah visto no ti confermo il tuo dai carica dove sono gli altri? davanti vado qui vado qui vado qui guarda il carrello? versagli eliminati vai un res no da me da me eh sono scesi sono scesi sono arrivati da me no è un altro team da te un altro team da te quanti qua? e non te posso salvare come te salvo? sto sotto io sta marcando sta marcando ma che faccio? eh io non te posso salvarla hanno interrogato Black Eagle eh fai schifo? che devo fare? non lo so no come cacchio mi è arrivata la bombetta qua? vuoi vedere un attimo quanti sono? allora uno figuro sì mamma mia col cieco che ho fatto comunque c'è le armi sui c'è le pistoline eh quelle doppie quindi eh ah sono due sono due sì ho due ma è un altro team sì perché ne abbiamo fatti quattro dove si è buttato? perché si è buttato? eh si è buttato lì cambia i gambe Dani eh donna via ma posso salì? no 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 eh sto salendo uno è sceso comunque ecco li stanno scendendo tutti ma come sai stanno aprire la corda tutti e due venite a me? l'ho visto l'ho visto un altro che è sceso lutta 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 che lutta fa? questo l'avevo già luttato dove è andato quello? no la corda la corda la corda la corda oh quanti ne stanno assali tutti sulla corda uno a terra l'altro a terra l'altro qualcuno mi ha sparato le spalle però ebbè abbassati lutta 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 i sordi lutta i sordi uno sopra ce laia di fronte da me da me bro stava sul tetto qua però non so se si è buttato ma ha messo one shot è ancora lì sopra fai via l'arma mannaccia siamo le piastre quasi si ce l'hai ce l'hai buono ah ancora lì l'ho visto hittato te copro anzi no non te posso coprir due res due res vieni qua resta tu resta tu nel frattempo uno non posso venire pure io sto salendo dalle scale c'erano le scale qua per salire dove andando non le trovo più ah c'è l'ascensore sto salendo sto salendo guardami da sopra dove sto salendo con l'ascensore di me dove come hai fatto a farlo è salito va a me mi sembra strano e ti ha fatto salire per i shit bro no no per i shit ti ha fatto salire così eh non mi avevo guardato sincero ma com'è possibile me ne pinga un altro sotto ma sotto dove vuoi andà qua mi sto a fare tutti pieni a piedi ma che aveva fatto aveva restato boh puoi restare di nuovo comunque comunque the game ma quant'è si che la fanek rossa raga tutta rossa tutta unita eh voglio darsi eh raga eh la ho preso i pistolini ho preso i pistolini oh si è messo la bandiera I like mi melo ma quanto è bella la hammer come auto no fra è bellissima la mimetica rossa della fanek bellissima se venivate qua facciamo avvia lo shop black black ma non c'è un punto 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 appena lo dirà abbiamo il palazzo ne pusciamo un team io voglio fare un plus costruzione hai visto che t'ho preso granda animen e mi melo per il solito mamma mia comunque la fanek rossa regale è illegale sì sì Bellissima, bellissima Che fia? Troppo Arrivo, arrivo Arrivo con l'hammer Uh, che ho fatto, zi? Ah, ma perché l'hammer è elettrica No, non è a benzina No, vabbè È tutto comunque pubblicità, sto gioco Minchia E c'è un pronunciatore, Black Buono sul tetto, perché tu? La macchina No, si è presa la mia hammer La rubata la macchina La rubata la macchina, zi È sceso, zi È sceso, zi, ma... Vabbè Ma arrestava Perché? Perchè? Mi piace andare un'altra Va bene Dove è andato? Eh, se n'è andato Vedete, poi c'è un bambu a V Che fiamo l'hammer Sì Vai, allora, andiamo L'hai comprato tu, jazzy Comprato io, comprato io Dai Andiamo, andiamo È lui, è lui Wow, ma ha distrutto, zi Non c'ho più piastre io Nacchua 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 Capito, sicuro Si chiama Nancchua Nancchua Dove stava Nancchua Nancchua Dove è il corpo Di Nancchua Nancchua Che c'è fa là? Si era buttato? Sì, sì, sì Ma faccio lo cazzo Quante piastre C'è la scorta Per un mese Di piastre qua Che vuoi? Toccando ammazza la taglia E mi fa un bonifico Su payball Tieni, tieni Eh, quante te ne servono ancora? Andiamo a chiudere la taglia Vai, vai In a keep on sweep Oh, ancho stefano La taglia Ma ci sono i lanci Sono lontanissimi Madò A me serve il lancio Regà Io c'ho le armi precise Dopo le mie Mia, ma non mia E la mia come pistole Voglio C'ho le pistole Affetti, affetti un attimo Va lentissimo Questa roba Fra, non c'ho le specs Questa roba 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 ma lì poi matto uno da me è sopra da me è sopra nella casa eh craccati tutti e due niente no no zi dove arriva black arriva black da bombo che l'ha fatto resta del resto le bombe non usciamo appiastrando io i pianti almeno due li vedo dietro la montagnetta dietro la montagnetta date danni granata niente le ho finite ma sono andato da quella collina e sta lì noi stanno in vantaggio loro adesso regà con la collina saranno già entrati qua eh davanti davanti a me a terra uno siamo rascostiti qua dietro pensate rdk rosso fra un'arma c'era un'arma io ho preso la rpk la mia traietta ce l'hanno buona no manco il cavolo vabbè niente mi tengo questa andiamo andiamo poi saliamo dal cavo dalla corda c'è il cavo qua regà dove state andando io salgo uno che si butta tipo a sinistra verso sinistra ah c'è l'altro cavo qua vorrei andare a sciopare un avviso vai pure io almeno l'arma l'arma mi serve un'arma a me a me non mi serve niente no scherzo mi serve anche a mentoria vai tu fate l'arma io mi faccio a me sa che non si può fare a wall vene mi dice che l'hanno già preso e invece l'hai fatto assurdo nessuno non lo dovete dire infatti non me lo fa prendere andiamo se andiamo se andiamo se da arac villaggi arac arac ballac arac ballac corri corri è finito rob non pinga niente manco da raccoballac uva faccio cavolo fra pure qua ad essere andiamo a destra arac arac no no già mi mira pure a me abdullam e impala no sono caduto sono caduto pur io porca porca puzzola come cazzo salgo lì sopra era uno arriva l'attacco con mortaio alleato eh mo salite voglio vedere hanno avvistato ma te ne manca no lo sapevo uno si è restato il mio mi sa eh è probabile si sul muro sul muro dentro casa mi stanno attistando mille volte c'ho la soluzione comunque mi hanno tirato un bombo ho fatto uno boh mi sono stufato e gli altri sono sul sopra bro sul muro no questo black l'ho fatto io uno sotto qua ah stanno qua dentro stanno qua sotto crackati qua dentro sono tutti sotto di me sono tutti sotto di me sono tutti sotto di me circa di due sono saliti sopra me sa no invece no sono qua sotto merda merda ci hanno scuagliato terra tua terra cazzo sono morto come un co eh miglia tutti e due di faccia qua ma che carmi avevano che ci han sciolto raga da me il resto da me 4 eh non ci arrivo i soldi uno che gira lo shop uno che gira lo shop è l'ultimo regale the shop sto girando sto girando è copritemi come deve restare me devono coprire però vai vai hanno restato hanno restato gira sinistra non fai date tanto se ne vanno buono è il problema che ora ci muoio perché mi ritroverò di faccia che mi aspettano vedono il rest l'altro è là dietro l'ho visto è andato dove la casa davanti ah visto è entrato ora morto uno bella sei pistoletto che ho trovato non serve via oh my god vai dentro vai dentro ci penso io bombo ho confermato io cura il volo non mi fa restare aspetta ho capito calma calma ma stasse pistoline regà ma sono diverse ce l'ho spaccavi questo è una maschera d'oro autoress vabbè fine a casa l'ultima andiamo bravo aspetta 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 che finisce tutta l'animazione aspetta 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 l'abbiamo vinta l'abbiamo vinta ma devono partire quindi altre quattro di fila eh sì ecco è perché c'è un bug non lo risolvono fin quando lo risolvono uh che mi è partito le orecchie bella purtroppo siamo così regà perché se no non conta le vittorie c'è un bug che se non guardi tutto la come si chiama la lista delle persone che hanno giocato nella lobby non esce da solo non ti conta le vittorie bello sto gioco quindi ogni volta ogni volta che fai una vittoria devi stare così vabbè aspettiamo questa la metto già nei preferiti che è bellissima ma la posso fare sentire 21 si chiama 21 reasons di ella henderson bella sta canzone fit ella henderson ok mo quando esce e fa tutto lui se può giocare chi è che è uscito ebbe error caricamento ha dato errore bro aspetta ferma la ricerca ha dato errore a black no che è successo chat di testo ah ma questa è di tutta la lobby non la mia privata you are all easy e come ti invito io non ti vedo on ti devi invitare Dani mi sa ok sono entrato ah ok a posto ok vai eeeh fammi vedere quelle pistolette regà eh sono belle perca puttana sono belle tatatata due colpi quanti tiri no un tre quattro colpi fratata a uno che ha dato tre colpi vabbè dipende che distanza che pistole sopra sono le prime le prime proprio fra fanno 8 e 90 si si fanno malissimo quelle che usa divine sono le basilic no quelle che usa divine fanno schifo lo sa buio no queste qua sono fortissime le magnum sono le magnum sono le magnum queste sono più forti queste ci hanno 12 colpi a testa e sparano a raffi tatatata cioè capito mi hanno preso a terra da uno da 24 quale caspita sono no non sono queste queste massimo arrivano a 12 eeeh bombo perché bombo è abbandonato che fai bombo che fai eh dev error si si uscite tutti uscite tutti rifamola la no 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 ok no no dai ma perché avete tutti le foto e io no perché state tutti con le foto ah perché l'avete fatta dentro ai king quando avete fatto sta foto ai king quando guarda nel gruppo fra state tutti con la foto aspetta non capisco oh hanno avesso le foto simone quando l'avete fatte è al king sicuro io non ci sto è al king è ma nessuno sapeva nulla vabbè io non sapevo niente che c'era il momento della foto ma stavo male ma mi sa che forse l'hanno fatta domenica ste foto sai quando l'avete fatta regà ah non c'è nessuno aspetta eh no non c'è né non c'è né coca né cosa che ci possono dire quando l'hanno fatta boh ah non lo so vabbè eh penso domenica ma chi è che c'è ma chi è oh ma chi è per davirum ma chi è dov'è la registrazione di coca che fa sono lupo bianco e sono il capopranco di lupo è bellissima qualcuno la ritrovi la rimandi nel gruppo per favore ah quindi è vero che lupo ha scambiato tex per sostenitore no è lui che non ha capito bene e io volevo io gli ho detto allora di faccia alcuni del team non li sapevo tipo jamesy non lo sapevo di faccia eh a tex non lo sapevo di faccia a coca non lo sapevo di faccia quindi quando me li sono trovati davanti ho detto ma tu chi sei fra cioè giustamente invece no blecco sapevo di faccia anche fin troppo bene poi a king pure e pure a coso vabbè a armando a simone o a me che non mi ricordo quando sono arrivato non mi ricordo chi mi ha detto guarda che ci sta armando l'ho guardato porco due era come me l'aspettavo ma pure gli altri ben o male sono arrivato qualcosa lupo lupo ciao sto streaming sto streaming parliamo dopo parliamo dopo eh si stavo in live però già non stavo capendo niente già non si sentiva nulla provavo a parlare con loro col microfono non andava stavo smattando non funzionava niente fra poi tipo doveva andare live alle 12 e mezza e tipo non andava internet hanno dovuto riavviare internet fra abbiamo perso un'ora no no io lo so perché anche l'anno scorso il primo giorno di fiera essendo che è il primo giorno quando tutti attaccano gli stand puntualmente non funziona la roba che è attaccato il primo giorno io lo sapevo il primo giorno non si deve fare la live se non il pomeriggio non si può fare la mattina perché le cose non funzionano ma non fa caldo non fa caldo perché non cambia niente ma impazzisce la peccato l'avrei voluto fare una streaming pure io ah ma non si capiva niente te lo giuro non sentivi niente e tra l'altro fra il live si sentiva solo boom 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 solo casino io intanto ero entrando nella tua parte dove stava andando e rumori perché si sentiva borghanno in fiera infatti chi te vuole chi te vuole vai step with the command wonderful you want to miss one frame you want to miss you come ma devo entrare lì non so nego eh ucavala fra quelli l'ultimo giorno hanno fatto storie pure con me lì dentro ah io ti ho detto dove ho provato a fare entrare quello mi ha detto no quando gliel'ho chiesto divento famoso prossimo arrivo avanti ah? i vips ma i vips quelli alti però io perché li conoscevo dall'anno scorso perché avevo streamato che avevano uno stand più piccolo loro ma quest'anno se non se non mi avessero conosciuto già dall'anno prima probabilmente avrebbero detto no pure a me perché quest'anno stava gente solo altissimo livello là dentro anche anche loro si hanno fatto un bel c'era vegas nitro la furia emis tutti mega jones emis è arrivato proprio al momento giusto quando lui è salito sul palco io ero lì e ha fatto tre canzoni siamo dettune dettune le dettune un po' tutti quelli che hanno chiamato hanno fatto tre canzoni e se ne sono andati fra oddio ma spaccato ha pushy ha pushy ha pushy ha pushy ha pushy oh si ma quanti sono sono 4 una terra una terra lì 2 terra 2 terra sono allora con la pistolina è qua no one shot c'è un'altra terra eh sì io non l'ho confermato quante ne avete messi a terra siete tutti a terra pure voi che cazzo io non ho le armi fra io so top se riesce a stare scendo io ma scendi no c'è la mina dovrà abbassersi per tornare in campo uh io gioco ogni volta tra i familiari di animal il tuo compagno ha perso non lo rivedrai più mi sa che sia rimasto uno più uno perché due li ho fatti sì qualcuno che mi viene da la mano da me oddio è nell'osservatorio fra l'ultimo questo è uno da me pure da me in altro team fra ho chiamato nemico in arrivo non so se gliela fai a chi a questo no si tratta uno non cazzo no no si tratta non arrenderti si ma arriva uno ah c'ho la caffetera io c'ho la caffetera io due da me no uno l'ho atterrato confermato eh come cazzo non posso morire vai vai si 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 era buono oddio 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 no no mi spegne la luce oh venga aiutate non morimo insieme non morire aspe 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 mi state affacap dennendo ha rotto le palle questo a corre così dove è Ah, è dietro No, mannaggia Discord Ma come si fa? Ah, benedetto il signore No, mi dissocio, Angelo Mi dissocio, mi dissocio Ah, perché quelli del mio team Ci hanno il pistolino No Alan contro Molly Lava Ma chi è sta gente nel Gulag? No, non mi piace salire lì fra Ciao Vai a lanciargliela alla Semetex È salito qua dietro Vai Ma l'amico mio, là che cazzo vuoi fare raccogliente? Funghi là dietro Invece di darmi una mano Vabbè È fuorissima la seiffa lì Vai, vado a fare quello Eh, raccolgo i funghi, signori Quelli là Spara a quelli, spara a quell'altro Eh, madame Ma Ma è parte di nuovo la canzone di Tre Biscotto Ah, finché luce se me dai Come around E mi chiamo Danny Bot No Non faceva così la canzone Ma quando mai? Sì, sì, lo so Che scherzo No, però attendo a quello che scrivi fra Perché certe cose non si possono scrivere in chat fra Eh, Facebook poi ti blocca eh Poi, giustamente uno si viene a lamentare sul gruppo Perché mi hai bloccato? Non ci sono stati noi Ti blocca Facebook in automatico Perché Facebook legge quello che scrivi Attenzione Vabbè, magari come l'hai scritto tu Tutto attaccato non capisce, però Eh, ma dove me l'ha messa? No, devo crossà Vabbè, piglio il gommone Non mi scocci di andare a piedi Eh, uh Mannaggia Eh, chi è su Instagram? Zio, devo rispondere a una roba importante Vabbè Eh, dopo, dopo Dovremmo vincerla questa Eravamo uno di fila Ma chi è? Ma chi è quel mona che sbatte la porta? Eh, questa va vinta Perché eravamo già uno Eh, vediamo di non morire Hai un resto Uh Al cimitero Sono pazzo, zi Se mi vuoi buttare al cimitero Eh, vai con la macchina No No Possiamo salutarla? No Eh beh, sta la macchina qua Però faccio prima l'altra saccoccia, dai Eh, ne fai due Non vuoi far arrabbiare Che mi sono appena lasciato con la donna Ma qui hanno aperto Eh, telecamera Hai rotto il cazzo Dal bagnaletto alla telecamera È un attimo Eh, vatti No, no Telecamera Hai rotto Vai, vai Di la WB e vai Fatti i cazzi tuoi Come si chiama? No, perché potevamo salutarla Eh no Sul cimitero Vai qua, la gente Eh sì, c'ha ragione Vado all'altra parte Pure di qua è pieno No, di qua, no Di qua non c'è nessuno Però mi sembri Vai, vai, vai In teoria non ci dovrebbe essere nessuno No, è libero lì Minchia Quello mi voleva far andare in bocca ai lupi Il lupo in bocca ai lupi Lì nel cimitero Bella Francesco Poi una sega Uh Eh no, perché vai a restare qua Vai, perché qua C'è stanno, capito C'è stagoso Pingopallino No Guarda, rimani qua Rimani qua, lupo No E che vado a fare qua No, perché lui prende questa E ti arriva i soldi Ti arriva i soldi A me mi arrivano i soldi, davvero? Eh sì, fra Ecco me Vabbò Qualcuno che mi regala l'hammer Sì, sì Ho capito, Angelo Ho capito Il problema Non è con me Il problema È con Facebook, Angelo È con Facebook Perché Facebook Se legge quella roba E poi ti blocca Io non ci posso fare niente Io ci devo dire Ci pushano Pa 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 Taratara Taratara E Cioè abbiamo i soldi Abbiamo i soldi anche per lui Fra io c'ho 900 Tu 3.700 Vieni Ma si può ricaricare La batteria di sto robo Fra la pompa di benzina Dell'hammer Sì, sì Non è solo benzina No, fra Vabbè, muo Ne esageriamo E lo vado a ricaricare Ciao È il team qua Vediamo È vero Ricarica anche la batteria Oh, bum bum Ti è soldi Ci è soldi Pa 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 Ra ra Pa 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 Ra ra Pa pa La 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 Aiuto Arrivo Arrivo Me ne vado Me ne vado Ah no Non me ne devo andare Tu torna Vai vai Ciao Dove andiamo Vai a pushare quelli al cimitero Taglia 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 No, che è quello Perché c'è gente là Una merda Una merda E' meglio cimitero Che lì C'era un furtivo Guarda C'è una bandierina Vai di qua Dove sta la bandierina No Vai No, a lei la bandierina Raga Ma questo coso No, ho spaccato una portiera Uh No, infatti non mi posso più affacciare Ah Ah Per andare così a cazzo i cani moriamo Oh, il cofano Abbiamo un cazzo Eh, lo so che lo prendiamo Dove pure avanzarmi L'ho visti L'ho visti Sì, no A parte sono i bot C'è la roccaforte È pieno di bot, bro No, però è un macello Hanno preso l'elicottero Via, via, via Vieni via Vieni via Vieni via Bombardamento Vieni via Bombardamento Senti qua Senti qua Senti qua Senti qua Senti qua Sanna scende Sanna scende È un macello Bro 3 2 1 Lanciate Bombarda Bombarda No, no Detro il muro Detro il muro Ti ha pushato uno Black Minchia Io lo sapevo Che andavamo al biscottone Minchia con il ral Non attacchiamo Ha flashato Eh, abbiamo preso il biscotto per andare a pushare quei tizi Vabbè, io non approfitto che dovevo rispondere a un messaggio importante Dio Dio Vivo Dio Dat Sì! 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 Con quei soldi un po' difficile da trovare sto gioco eh! fermate 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 lascia i soldi lascia l'arma metti verso l'arma e cercare prendi i soldi in teoria dovrebbe fosse il bug e riprova che prendi i soldi prendi sugli soldi avvicinati avvicinati non te lo fai che cazzo devo fare lancio di equipaggiamento in arrivo perdete terreno il gas inizia a dividersi tenete gli occhi aperti non ti sta nooo allora eccomi qua ragazzi sto mandando un messaggio di lavoro allora per ora sto facendo 13 ore di lavoro cavolo luvo quindi per ora aspetta per ora sto facendo 13 ore e per ora e per ora sto facendo che te vedo meno nooo ma come gattuso che dice ieri abbiamo giocato insieme ieri ho fatto fino alle 3 di notte no vabbè gattuso ha staccato mi pare verso l'una e mezza poi noi abbiamo continuato senza gattuso abbiamo giocato io gattuso e una ragazza insieme let's go che gusto danny pronto vai là danny è l'unico per fare i sordi c'è uno avviso qua però ti allo tiraglielo uh ce l'hai davanti vabbè no è sulla strada eh però arriva e vai danny devi pensare i sordi è arrivato qua è arrivato qua è dentro il cimitero no bomba non credo che non riesci a bucare lì è troppo grosso è lì è lì ti è passato tirato si è tuffato stutili delinquente 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 in fama in fama caratta dai 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 non va a terra no dai oh bravo mamma mi tre ore quando ti sparano gli altri mori subito un bomba come è stato qui ah di estore mix strano ma due cazzo non c'è di risa no non può essere due it di estore mix che roba è ah no è è one day c'è una macchina no però io ho un nemico 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 da me ahia macchina vai qua vai qua c'è uno qua da me eh dai dai c'è una macchina che cambia è sceso uno da me però a farmi il resto io anche se è così possibile aspetta aspetta c'è uno da me c'è uno qua da me bomba c'è il resto a destra eh ma la se l'abbiamo pure qua no aiuto daniel e ci domanda e no qua non c'è il resto serve un attimo di audio un secondo uno prego venire venire qui c'è uno qua da te bomba qua da me e c'è gente c'è gente pure sul resto da qua fammi questo e arrestiamo acqua ce puoi camminare se te butti che c'è finata da dato ua madani si è proprio un bot è sotto di lui praticamente sotto danni fra l'ha fatto da sotto c'ha pure il cecchino il problema è che non può salire perché tu sei andato qua e mose morto sì perché non puoi scendere c'è una scaletta no che scaletta tu sei passato saltando all'altro detto dato un po d'arte bombo tanto non ci vuoi andare so vedi due anni resta tutto l'avevo detto libro è ma pure modi si impegano un po di sala no dico che hanno arrestato a destra quando poteva manco delle manco della quantità di quantità resta che no non poi frisica è più dello shop c'è dopo 10 15 secondi non puoi più di sala una sinistra un acqua ma chi è questo ecco il vero no e niente io stacco stacco regà va bene e dai io mi vado a fare qualche signor letto poi stacco ciao ciao bella 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 basta un sicoretto mi faccio poi stacco dov'è 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 non lo trovo vai devo riprendermi le doppie pistole che stavo facendo un ma il caffè non è arrivato più zi what dov'è finito il caffè me l'hanno rubato me l'hanno rubato il caffè signore aspetta la bella è lento bro è lento a mità a mità uè è lento Ah, MottoVipMix Assurdo Let's go Oh, ma non mi trovo ai singoletti Che stas succede? Ma sei impazzito Aspettate, come si vede? No, io ho paura di vedere il radio Mi metto le mani nei capelli Ma arrabbio vedere Com'era che si faceva medica? Porta fortuna? C'era un porta fortuna Che te lo faceva vedere, vero? Aspetta, fa vedere se così me lo fa vedere No No De colmania adesivo Ah, questo Non lo fa vedere più, però Perché? L'hanno cambiato Non lo fa vedere più No, l'hanno tolto Non si può più vedere Peccato Eh, c'era il bug Ti faccio vedere le kill e le morti Non te lo fa vedere più Pa, 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 rap Eccomi Pronto, pronto Questa mi ricordo È bellina No, non mi piace Ferrari di Oliver Carina però, no? No Pa, 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 rap Parina questa Allora Ci siamo? Pronto Vediamo che succede nel singolo Noo, ti pareva? 14 secondi 14 secondi 149 in singolo You are so Noo Ma perché devono fare Sempre i tossici In partita Ma poi le Hanno messo le parole Bannate Dove shit Dovrebbe essere bannato Fax the king At everything O mi spammo in partita Anzi no Che in singolo Mi vengono poi Sniperare Fax the football French Arrivare No Che io Mamma mia Se ne stanno sui Tutti i colori Se stanno insultando Non lo so perché Si stanno insultando Francesi E altra gente Vabbè Stanno fuori Inizia la partita Si pensano Insultare I francesi Con gli americani Vabbè GG Decidi di giocare Pensano Insultarsi in chat Manco si conoscono Che coglione Minchia Minchia Che ha fatto Dai 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 Bill Mannaggia Lo zainetto La madonna Mannaggia Lo zainetto Zii Mannaggia Per lutto Lo sapete Sono passati due Lassopra Possibile Si No Dai Mannaggia Vabbè Questa non si può Calcolare Vabbè Data male Ci riproviamo Peccato Avevo fatto pure Due kill Stavo iniziando Non c'è male Ok Minchia si scotta Vabbè Facciamo l'ultima Facciamo proprio L'ultima L'ultima Sperando di vedere Che viene bene Tutto Negozio che hanno messo Qualcosa di bello No Questo non mi piace Qua non ci sta niente di che No Questo Non ci sono operatori Oh qua c'è un operatore Ma niente di che Questo Questo Agli unici sono questi qua Che costano di più Pogba Nei mare Eccetera eccetera Oppure gli operatori Che hanno comprato A 10 euro Mamma mia Questi tutti rossi Questi tutti verdi Dei vari team Di call of duty London royal Los angeles Guerrillas Ah Eccolo qua E' questo il pacchetto Oh my god Eh 10 euro 10 euro O voi 10 euro Vabbè ma è inutile Comunque E tanto Non ci sono i posti bui Dove nascondersi Da Da D'acqua E' forte sto cecchino madò Nuvo? Pronto? Pronto? Mi senti? Pronto? Mi senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti Angelo? Prondo? Pronto Non mi sentite più No funziona il microfono Uno, due Grando, Angelo, mi senti? Ah, ok, ok, ok No, no, pensavo che non funzionava più niente Eh, oddio, osservatorio Bello tosto come posto Eeeh, ora provo ad andare qua, va Nell'isoletta No, pensavo si fosse buggato e non mi sentivo più Verdask is better, eh, lo so No, mi servono le piastre Buono In teoria Ah, avevano preso pure il rincoso qua, no? Hanno rubato la cosa che volevo io C'è una volta a far culac, va Tutto bene, tutto bene, tutto bene Mi stavo giocando qualche singolo Poi vado a riposarmi un po' Eh, non lo so se ci sono anche stasera Dipende, se non c'è nessuno Di miei amici stasera, forse ci sono anche stasera Ah, avevo cercato di fare la, diciamo, la nuke oggi Vabbè, ma no, niente La nucleare Uh, mi hanno fatto esposare qualcosa No, ci, 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 ci Ah Vabbè Vabbè, vabbè Vai, dopo tre kill si va al gulag Viva il gulag Vediamo se vinciamo 3, 2, 1 Oh, mi hanno fatto questo a salire già qua Beh, dai È italiano era Ah Oh, gli ultimi quattro colpi c'ho, zi Bravo, bravo, bravo Il compagno di team Ah, capito Questi giorni mi faccia male il dent Se ti faccia male il molare Eh Dovresti far vedere Oppure Devi prendere Eh Aspetta Per i mal di denti Mi pare o l'antibiotico O la daghiperina Tipo Te lo fa passare Però dipende che roba è Potrebbe essere anche il dente del giudizio Che magari Ti sta uscendo Che ti fa male Comunque non è da sottovalutare Perché potrebbe essere una caria C'è una caria Bisogna curarla Sennò peggiora Eh Non fa niente l'antibiotico E cose Tipo a tutti nel dolore Ma Eh Sono pure Sono pure Medico dentista No In realtà Perché queste cose Le so già Non è che pure La pinza Pure medico So pure medico Sì So pure medico So un po' di tutto Uh Eh Ha trovato l'UAV Questo No Non è possibile Dai Ti ho sparato prima io Guarda lì È rimasto con tanto Di vita Ma ne faccio un altro Che non va bene Ciao caro Carmi ti piacciono A me Mi fa impazzire Ho l'M4 L'RPK Perché al momento è meta Il RAL Le doppie pistole Che sto usando Quando prendo il lancio La 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 Fennec E Come mitraglietta La Vaznev E Il Come altro Assalto Il TAC Va bene Faccio un altro Ho avuto un attacco Di stitichezza Te posso consigliare Tante cose Allora Ci stanno Delle bustine Di mela verde Te posso consigliare Anche su quello Ci stanno Le bustine Di mela verde Che poi ti fanno Andare liscio O te mangi Un bel po' Di prugne Eppure Va là Vai liscio Oppure Aspetta Cosa è che c'era 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 Oppure Da boffi Di caffè E Vedi come vai Pure Ti prendi 10 caffè Vendi caffè Dopo E via E Ci stanno Tante soluzioni Non io lupo Ma quello Del gulag Ah Ok 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 Peccato Vabbè Comunque Se ti viene anche a te C'è la soluzione Non so Martedì devo andare Eh sì Dovresti andare Dovresti andare A far vedere Un attimino Allora Ce l'ho sempre Che posso fare Che cosa Aspetta Ma come sto Aspetta Poi c'hai la stitichezza Tu Eh Allora Prima di tutto Con la stitichezza Ma io sconsiglio Comunque Di prendere Medicinali O coso Diciamo che Se è proprio grave All'inizio Con quello Poi È l'alimentazione Regà Se avete la stitichezza Dovete mangiare più verdura Un po' più di frutta White wolf Medic Sender Mo me apro Un gold Sender Medic Mo me lo apro Eh Dovete mangiare più Dritto Cosa dritto No Eh tagliatelo Che te devo dire Tagliatelo Pronto Pronto Matteo Famvo Allora Eh Stavo a di Aspetta Fammi smutare qua E' questo C'è stato Noi rimedi in farmacia Oppure Se è un mid C'è stato Noi rimedi Comunque in farmacia Quella roba là Che mi ha scritto Cattuso Non ancora Non mi ricordo A cosa si riferiva Oh non ho capito A cosa riferisco Aveva risposto Cattuso Non mi ricordo Un po' di ghiaccio Eh se no Se potrebbe mettere Effettivamente Lo puoi mettere Anche a congelare Prendi tanti cubetti Di ghiaccio E vedi poi dopo Come non è più Vedi come va Il letargo Ancora Anna Frank Basta E' tutt'oggi Che la becco Si diverte nei singoli Vediamo Vamonos Eh no Vabbè ci vuole un po' Ah secondo me Prima ti deve visitare E poi ti darà Un altro affrontamento Ma mi botto qua Se scende pure 3.000 persone Qui Mannaggia Mi arrabbio Prendon Dai dai 3 2 1 E niente E devono scendere Tutti qua Con me Deo Dai non è possibile Dai dai ma che caccio Significa Ma ha tirato due colpi Ah le bestemmie Ma ha tirato due colpi in croce Due due Assurdo quanto è bassa la vita assurdo Vabbè si comincia il Gulag Sì sì ce li ho C'ho sia il TAC che l'RPK Vabbè l'RPK è il bitragione che l'M4 che il TAC C'ho Dai Madonna di Una nonna che Pure il compagno è morto Stavo giocando tanto bene i singoli Prima che ho vinto pure con 15 kill Sì vabbè 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 Calma 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 ci riprovo Ci riprovo L'ultima Non vale non vale così Riprovo l'ultima volta Allora Fammi vedere Ah ti potevo fare delle classi Allora Questa è l'M4 Però Allora questo qua è fortissimo A media distanza Da lontano rincula un po' troppo Volendo potresti togliere Ho il calcio E gli metti un sottocanna Un sottocanna però tipo uno di questi Uno di questi qua Io preferisco tenerlo così Perché è un po' più veloce Più mobile Aspetta Ho sbagliato Però rincula un po' Così rincula un po' Settato così Però è forte Se no C'è questo tac qua Settato così Che invece è più lento Ma rincula di meno dell'M4 Io onestamente Tra i tanti Quello che ho visto con meno rinculo Questo E c'è anche più colpi Ed è più forte L'RPK Al mitraglione sto usando No si è tolto Vabbè no Si vede Sto usando questo Sto usando questo Ah te volevano fare la quarta dose del vaccino Ma non la fanno la quarta dose del vaccino Come la quarta dose del vaccino Non si deve fare No fra Già ne ho fatte tre di tossio Penso anche tu Sì Tu le hai fatte per forza anche tu tre Basta Eh uh Quante dovevo fare Dieci E quindi no Poi ma non si capisce Perché per esempio Molti che sono stati a Milano Molti hanno preso la febbre Però molti sono risultati Cioè la metà sono risultati negativi Ma con febbre Cioè negativi proprio Altri sono risultati positivi Con febbre Quindi non si capisce Io penso che ormai è diventato come se fosse Un tipo come quando prendi l'influenza Che c'hai raffreddore Tosse Febbre Secondo me adesso si è trasformato in un altro tipo di influenza Perché non esiste Cioè in senso Tutti quanti Io fortunatamente non mi sono ammalato Però la maggior parte si sono ammalati Ma chi risultato negativo Chi risultato positivo Con la febbre Vabbè Ma se lo scarico in tutto Quanto è? Sono tipo un 120 giga 110 giga Di gioco Potrebbe essere di più Diciamo che tutto sommato ci può stare Quale commento è scritto? Aspetta speriamo che il dottore mi corrisce subito Eh no te l'ho detto Ah adesso ho una bolla sotto il dente In che senso ho una bolla sotto il dente? Ma sei un dottore? No no però Ormai c'ho tante esperienze In tante cose che Diciamo le cose basilari Un po' di tutto le so Ho fatto un po' di esperienze su di me Un po' di esperimenti su di me Ecco mettiamola così Tipo ti posso dire Oppure per parenti insomma I cazzotti sono sempre fortissimi Guarda la due colpi ho dato Non c'è niente da fare Cazzo si è preso La cosa che volevo prendere io La missione E mo' come faccio? Esperto di fatale pure? Tutto 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 Fra coline pesche Rugne Vabbè alcune cose infatti non serve Per altre un po' più particolari si Tipo Ho cercato per due anni di risolvermi da solo Il problema dell'allergia Non ci sono riuscito Adesso sono andato da Dallo Torino E mi ha dato Una roba Una cura che io non conoscevo E sta funzionando Ho provato per due anni da solo A fare qualcosa Senza sono riuscito Dunque la c'è esaltata la gente In teoria Dai dammi una Ma mi serve un assalto Dai Mamma mia sto gioco Non mi prende le cose Che cazzo dura Ah sotto la gengiva Potrebbe essere anche Quelle bollicine che escono Non mi ricordo come si chiamano Poi si tolgono dopo un tot di tempo Però fanno un po' male Ma si levano da sole Sono uscite pure a me Tempo fa Madonna Non ci sta niente da fare No Quando ti sparano Non ti riesci a girare Muori Cioè veramente non ci sta nulla da fare No non vedi Non è il tempo di reagire Chi spara per primo Fa fuori Ciao Altre due qua After No e non mi ricordo Che fai per l'allergia Eh sto facendo Uno spruzzo nasale La mattina Uno spruzzo nasale La sera E l'antistaminico Prima di andare a dormire Invece a me Mi avevano fatto fare Degli aerosol Prima Non serviva a niente Non mi risolveva Una beata Non mi faceva proprio nulla L'aerosol Ho provato tante cose Altri spray Questo mi ha dato La cura giusta Invece Eh poi dovrei fare Le prove allergiche Per capire poi bene A che cosa Sono allergico Lo devo ancora fare Però per il momento Sta funzionando In realtà Uh Dai Niente Chi spara prima Vince Mannaggia Sto gioco del cavolo No dai Ma dov'è l'amico Che non dà una mano È morto È morto No è vivo Da prego Vinci Vinci Che uno Te l'ho messo Senza vita Proprio Non ho sparata Qua Vai addosso Dai Craccato Non c'ha vita Oh Sta fa Eh sì Invece è una cura Fra A me sta funzionando Non sto avendo Al momento problemi Fra Sono degli spray Particolari Nasali Che vanno in combinazione Più l'antistaminico È quella la cura Fra Diciamo quella Un po' più leggera Ci sono anche le altre cure Pesanti Ma Vabbè Non è il mio caso Non è che sto così Inguaiato Per il momento Oppure Io da solo Avevo scoperto Che il cortisone Me la toglieva Però il cortisone Ti Cioè Non puoi fare Lo puoi prendere Per poco tempo E dopo Ti distrugge il cortisone Guarda quello Siamo dottori Comunque Basta Siamo tutti dottori Domani mi apro Lo studio Faccio visite A tutti quanti Signori A tutti quanti Vai Con ricetta medica E tutto Per prescrivere Le medicine Eh ma L'allergia Non la puoi curare Diciamo che è una cura Per placarla Sì Non è che puoi Levarti l'allergia Se sei allergico A qualcosa Sei allergico Bisogna capire a cosa Ma La puoi solo placare La tieni bloccata Non è che Guarisci dall'allergia Però a me Mi portava Tanti problemi Ecco Neanche C'è con le cose Che facevo prima Che non me la placavano Ecco Quello è il fatto No no Io lo prendo Prima di andare a dormire Non si piglia di giorno Come si esce da qua Come si esce da qua Beh ciccio Buona Buona Buon Natale Buon Natale ciccio Lo chiamerò il dottor lupo Il dottor lupo Chiamo anche tu Il 332 4 9 17 40 Per Avere una consulenza Creatuita Dottor lupo Eh Stavo facendo qualche singoletto In realtà Quante ore sono Eh Sono 4 ore e mezza Volevo riposarmi un attimino No In realtà Stavo Volevo giocare l'ultima L'ultima in singolo Tu stai attaccando ora Io sono mezzo cotto Te lo giuro Ho 4 ore e mezza Che gioco Oh Madonna Fra Mi si è bloccato il pad Perché ho il pad rotto Guarda Bravo lui Per carità di dio Eh no Stacco Eh Si è attaccato ora Eh Peccato Dai 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 Stasera Se non esco Ci sono Ci sono Ci facciamo qualche partita E Vado Non vedo l'ora che mi arriva Sto Veramente sto pad Nuovo Regà Si blocca Questo qua È rimasto schiacciato Non si tira più su E si è bloccato così Vabbè Dovrebbe arrivarmi lunedì martedì Il pad nuovo Speriamo bene Allora Dai regà Tengo 4 ore e mezza Vi vado a riposar E Poi Vi ho detto Penso che se stasera Nessuno fa nulla Penso che ci sono Magari anche stasera Quindi ci rivediamo stasera Se no Ci sono Domani Vediamo un po' Vediamo un po' Tanto se avete le notifiche Vi arriva Vi arriva la notifica Vediamo Se nessuno fa niente Penso che magari 9-9 e mezza Mi ricollego Hai detto il mio numero di telefono Guarda Se l'ho beccato per sbaglio Fammi vincitore Di un milione di euro Perché è impossibile Che t'ho beccato Cioè è impossibile Che non ho sbagliato neanche un numero È impossibile Non ci credo manco Manco se mi dai mille euro È impossibile proprio Allora Stavo dicendo Ok Stavo dicendo niente Regà dai Vediamo Non mi assicuro Che stasera ci sono Però se avete le notifiche Dai vi arriva la notifica Nel caso Se proprio non ci sono Ci vediamo domani Bella regà Un bacione Grazie 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 Grazie